Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti al Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo. Lasciamo subito la parola al Direttore per un suo saluto, il Professor Morozzo della Rocca. Grazie. In dettaglio, forse anche in concreto, entrerete con i tre coordinatori didattici del Dipartimento. Dico tre perché in effetti sono tre le grandi aree di studio nel Dipartimento. Sono quella di Filosofia, quella di Comunicazione e quella del Dams, cioè delle arti dello spettacolo. E naturalmente sono tre branche molto specifiche. Potete ben capire, la filosofia insiste sul pensiero critico, la comunicazione insiste su come spendere i saperi in una società come la nostra, che ormai è tutta interconnessa, è tutto un esercizio della comunicazione e della persuasione dalla mattina alla sera. E poi il Dams che insegna a fare progettazione culturale nel campo del cinema, del teatro, della musica, di tutte le arti dello spettacolo. Progettazione culturale perché non è che lo spettacolo è improvvisazione, è solo spontaneità, ecco, è solo talento. C'è anche il raffinamento di quello che uno ha come inclinazioni, eccetera. Bene, tutto questo però si fa, tutta questa attività didattica di filosofia, comunicazione e spettacolo, si fa sulla base di un numero di docenti piuttosto ampio, tra docenti strutturati fissi e docenti che noi abbiamo a contratto ogni anno, siamo circa 130 e quindi abbiamo una vasta gamma di tutti i saperi, di tutte le scienze, ecco, soprattutto umanistiche. C'è anche qualcosa di più strettamente scientifico-tecnico, perché è necessario anche questo, insomma. Bene, detto questo credo che come Dipartimento noi siamo sostanzialmente una buona introduzione alla vita di oggi, alla vita della globalizzazione e questo io ne sono convinto non solo oggi che andiamo a presentare il Dipartimento, ma è una tendenza che si verifica da anni, insomma ormai la vita è cambiata, la vita in cui voi siete cresciuti è quella della globalizzazione. Mi chiedevo in questi giorni davanti ai tristissimi fatti dell'Ucraina se ci fosse un ritorno al passato, perché sembra di tornare al passato vedendo questa guerra, no? Al passato novecentesco, uno sento dire siamo nel 1914, siamo nel 1940, no, non è così. Io credo che come stiamo vivendo questa guerra a livello globale conferma che siamo in un'altra età, nell'età della globalizzazione. E allora il fatto stesso che tutti i fenomeni di questo momento, l'atmosfera bellicista, il riarmo, il nazionalismo, la propaganda di guerra, siano virali come non sono mai stati in passato, mi sembra confermare che la globalizzazione resta la cosa più pervasiva della nostra epoca. E penso che quello che noi proponiamo è esattamente quello che serve per non essere spaesati nella globalizzazione. Usi il termine spaesati perché c'è un famoso filosofo e sociologo bulgaro-francese, Zvezan Todorov, che definisce la globalizzazione come spaesamento. Ecco, quello che noi proponiamo è di non essere spaesati, di trovare quindi la propria strada, il proprio lavoro, in una maniera sicura, non incerta. Detto questo, do la parola allora ai coordinatori a cominciare dalla coordinatrice dei corsi di comunicazione, la professoressa Francesca Iannelli. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti. Scusatemi, ecco qua. Inizio con la mia presentazione, sono la coordinatrice del corso di laurea in scienze della comunicazione e desidero presentarvi quelli che sono di fatto i valori fondamentali del nostro corso di laurea. Vedete innanzitutto che da questa breve lista di discipline che contraddistinguono il nostro corso di laurea triennale, di fatto il corso di laurea in scienze della comunicazione è contraddistinto da una forte interdisciplinarità. Vedete che dei saperi tradizionali che anche al liceo voi studiate come la psicologia, in alcuni casi la letteratura, la storia, ma anche la linguistica, si accostano ad altri saperi, saperi nuovi, saperi all'avanguardia come le digital humanities, le scienze cognitive o il marketing. Quindi innanzitutto vi è questa sinergia tra saperi tradizionali e nuovi saperi. E oltre a ciò potremmo dire che vi è una forte alleanza e feconda alleanza tra discipline più speculative come le discipline filosofiche, penso alla filosofia del linguaggio, alla filosofia dell'arte, all'estetica, al critical thinking, con delle discipline più professionalizzanti, ad esempio il giornalismo. Quindi ecco, come già capite da questa brevissima presentazione, vi è una forte eterogeneità di discipline. Questa eterogeneità però non va intesa come elemento di debolezza, come frammentarietà, al contrario è un vero e proprio allenamento per voi nel corso dei tre anni della laurea triennale in scienze della comunicazione al pensiero flessibile, al pensiero trasversale che è indispensabile ai nostri giorni, proprio come diceva il nostro direttore, per orientarci nel caos di informazioni che ci bombardano. In questo senso anche molto importante è il valore applicativo della formazione che riceverete da noi nel nostro corso di laurea in scienze della comunicazione. Questo perché? Perché accanto alle discipline di cui vi parlavo prima abbiamo una serie di laboratori, quindi ho elencati alcuni, alcuni anche molto stimolanti, come pensate ecco il laboratorio di fotogiornalismo o il laboratorio di giornalismo televisivo, di scrittura e giornalismo, di scrittura e comunicazione, di narrazioni digitali o di linguaggio musicale che andranno a caratterizzare con una forte natura esperienziale la vostra preparazione. Quindi non solo teorica, non solo astratta, ma anche pratica e il che chiaramente capite che dà alla vostra formazione anche una spendibilità all'interno del mondo del lavoro, o del mondo della comunicazione. Oltre a ciò, un altro valore importante per il nostro corso di laurea è quello dell'internazionalizzazione. Dal prossimo anno inseriremo un nuovo insegnamento, oltre al classico corso di inglese che ovviamente contraddistingue la preparazione di tutti i nostri studenti, un corso English for Communication Studies. Questo perché? Perché riteniamo importante che la comunicazione sia professionalmente solida e valida e che i nostri studenti siano in grado di comunicare con tutti i potenziali partner e soprattutto che nel corso dei tre anni riescano anche a potenziare le loro competenze mettendosi alla prova in un ambito internazionale, ad esempio tramite il progetto Erasmus. Abbiamo molte collaborazioni con vari paesi europei, quindi elencati alcuni come il Belgio, la Francia, la Germania, l'Irlanda, la Polonia, la Spagna e lì sarà possibile nelle varie università partner svolgere sei mesi per approfondire e mettere alla prova in un contesto internazionale la vostra preparazione. E tutto ciò vi aiuterà a sviluppare un pensiero critico, un sapere indipendente, soprattutto per riuscire a selezionare quali sono i canali di comunicazione più autorevoli. Questo avete visto durante il periodo della pandemia e anche durante questo periodo di guerra è molto importante sapersi orientare in quell'oceano di fake news che purtroppo ogni giorno ci sovrastano e il sapere critico e quindi scegliere le fonti autorevoli orientarsi e distinguere una comunicazione virtuosa da una comunicazione fallace diventa fondamentale. In questo senso il nostro corso vi preparerà a sviluppare un sapere critico indipendente. Accenno rapidamente a quelli che possono essere gli sbocchi lavorativi alla fine dei tre anni, quindi alla fine del corso di laurea triennale. Avete forse già capito dalla varietà di discipline che contraddistinguono il nostro corso di laurea che anche il profilo in uscita dei nostri laureati è molto eclettico, trasversale, direi ecco versatile. Chiaramente il macro settore nel quale andrete a lavorare è ovviamente quello della comunicazione inteso in senso molto lato, quindi comunicazione intesa in senso tradizionale, ma anche ovviamente comunicazione digitale. Immaginate ecco come vari possibili sbocchi, quello delle redazioni editoriali, degli uffici stampa, delle organizzazioni aziendali, quindi varie differenti realtà lavorative. E anche il profilo, come vi dicevo, può essere molto eterogeneo, dipende anche da quelle che sono ovviamente le vostre potenzialità, la vostra vocazione, i vostri interessi e anche la capacità di personalizzare il vostro percorso accademico nel corso dei tre anni. Menziono ecco alcune delle possibili mansioni, potrebbero essere appunto quello dell'addetto stampa, del social media manager, dell'addetto alle risorse umane, quindi un profilo molto variegato. In ogni caso, ecco fondamentale, già da ora, è pensare al corso di laurea magistrale che poi potrà completare la vostra formazione in futuro. E dunque ecco ricordo che dopo il corso di laurea triennale Scienze della Comunicazione sono al momento attivi da noi due corsi di laurea magistrale. Il primo è in informazione editoria e giornalismo, corso di laurea magistrale 19. Si tratta di un corso di laurea che, come capite, va a formare delle figure professionali attive appunto nella macro area della produzione e gestione dell'informazione e in tal senso tra i nostri docenti vi sono dei professionisti che vi aiuteranno a far questo, ovviamente. Sono dei giornalisti che incontrerete in realtà già nel corso di laurea triennale, dei docenti che insegnano giornalismo e poi giornalismo specialistico alla magistrale, professionisti del Corriere della Sera e della Repubblica. E oltre a ciò, da quest'anno abbiamo anche attivato un laboratorio di giornalismo di cronaca per darvi l'occasione anche di mettere in pratica quanto appreso in ambito teorico. E un altro aspetto importante del corso di laurea magistrale in formazione editoria e giornalismo è stata questa capacità, questa necessità di potenziare la comunicazione digitale. Abbiamo dato molto, vuol dire, molta valorizzazione a questo aspetto. Sappiamo quanto è importante la comunicazione digitale ai nostri giorni e abbiamo inserito negli ultimi anni degli insegnamenti all'avanguardia come Digital Humanities e di teoria digitale. E dunque, ecco, i nostri docenti sono specializzati anche in questo settore che, vi ricordo, durante il periodo della pandemia è stato uno dei pochi settori in forte espansione. Sappiamo come l'e-book e non solo l'editoria digitale in generale durante il periodo della pandemia ha di fatto esperito una forte crescita rispetto magari ad altri settori che invece erano in sofferenza. E l'altro corso di laurea magistrale invece è il corso di laurea in Scienze Cognitive della Comunicazione e dell'Azione che è un corso di laurea magistrale sicuramente più sperimentale che va a indagare, a studiare meccanismi cognitivi che sono alla base dei sistemi di comunicazione in senso lato, in senso molto ampio, quindi dai media, alle relazioni internazionali e dall'industria culturale ai consumi, quindi uno spettro d'azione e di indagine molto ampio. Gli insegnamenti che caratterizzano questo corso di laurea magistrale sono sicuramente molto ambiziosi, penso per esempio a un insegnamento come quello dell'intelligenza artificiale o di neuroetica o di filosofia della mente, quindi capite si tratta di insegnamenti che vanno a indagare da un punto di vista filosofico e scientifico di fatto in cosa consiste la comunicazione, però d'altra parte va anche detto che anche questo corso di laurea ha una sua natura applicativa e per esempio possiamo ricordare il settore in espansione del neuromarketing che è un settore nel quale i nostri laureati di scienze cognitive tra i tanti sbocchi possono trovare sicuramente un'occasione di lavoro e dunque ecco purtroppo lo spazio che abbiamo a disposizione è breve vi invito per consultare ecco anche le nostre brochure se avete curiosità rispetto all'ulteriore insegnamenti vi invito a seguire sicuramente i nostri canali social troverete per quanto riguarda comunicazione un canale Instagram Facebook potete contattare anche la nostra segreteria su Skype e abbiamo un canale YouTube e dovete cercare ecco come parola chiave comunica 3 e anche il nostro sito è ricco di informazioni e proprio lì troverete le brochure di quest'anno nelle quali potete poi con calma ecco visionare tutti gli insegnamenti e trovare tutte le informazioni nel dettaglio e vi lascio con un ultimo pensiero filosofico una piccola perla kantiana molti di voi forse quest'anno hanno già affrontato si sono già cimentati col pensiero di Kant ecco vi lascio con questo pensiero se non abbiamo la libertà di comunicare non abbiamo neanche la libertà di pensare dunque non guardiamo al pensiero come un'attività solitaria e remitica ma guardiamo al pensiero come un'occasione per comunicare assieme grazie passo la parola al mio collega Riccardo Chiaradonna e coordinatore di filosofia prego grazie 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 scusate Valentina sto cercando di sintonizzarmi sul sito ma mi dice vediamo un po' ah no ci fa andare ci fa andare bene buongiorno a tutte e a tutti quella che trovate qui sullo schermo è la home page del collegio didattico in filosofia pregherei anche la regia di renderla visibile per chi ci sta seguendo da casa io sono Riccardo Chiaradonna insegno storie della filosofia antica a Roma 3 e vi illustro l'insegnamento e la struttura del corso di studio in filosofia filosofia è un corso di studio che ha questa caratteristica da un certo punto di vista è il più antico di tutti noi oggi chiamiamo l'università accademia e in fondo accademia è il nome di una scuola filosofica la scuola di Platone d'altra parte nella sua antichità l'insegnamento universitario nasce con la filosofia potremmo dire filosofia è tuttavia un insegnamento che ha sempre saputo ripensarsi e cambiare non solo a seconda di quello che è stato il tempo presente ma anche cercando un po' di anticipare quelle che sono poi delle delle tendenze e delle come dire delle strutture che si manifestano nel futuro il nostro insegnamento di Roma 3 ha questa doppia doppia caratteristica nella home page di filosofia che vi invito a visitare troverete tutte le istruzioni e tutte le come dire indicazioni per seguire i nostri corsi quindi per esempio la lista dei vari insegnamenti come diceva la mia collega Francesca Iannelli anche gli insegnamenti del corso di laurea in filosofia hanno un carattere tipicamente filosofico con una forte base data da insegnamenti di base caratterizzanti che danno gli elementi anche istituzionali per un percorso di studio in filosofia ma allo stesso tempo anche con insegnamenti di tipo interdisciplinare che riguardano la storia le lingue riguardano anche insegnamenti a cavallo tra la filosofia e le scienze le neuroscienze e così via questo perché la filosofia solo impropriamente può essere detta una disciplina umanistica è una disciplina certamente umanistica ma che fin dalla nascita è sempre stata in dialogo costante con tutto con tutte le forme del sapere e a questa tipica forma della filosofia in dialogo con le altre forme del sapere gli insegnamenti impartiti a Roma 3 sono particolarmente fedeli quindi la nostra visione dell'insegnamento filosofico non è tanto una visione diciamo chiusa in se stessa con i grandi classici della filosofia che comunque state sicuri fanno parte degli insegnamenti che vengono impartiti ma allo stesso tempo oltre a questo c'è una forte vocazione interdisciplinare e in dialogo con altre forme del sapere peraltro molto ben rappresentate nel nostro dipartimento la comunicazione il rapporto filosofia scienze il rapporto filosofia arte e vorrei soffermarmi su pochi punti essenziali che credo sono quelli su cui in qualche modo si interroga chi vuole iscriversi a filosofia ossia il primo punto come si è guidati nel passaggio tra scuola secondaria superiore università questo passaggio è certamente un passaggio delicato ma oltre alla giornata di oggi troverete qui sul nostro portale tutti gli strumenti che vi permetteranno di orientarvi ci sono anche molti sportelli per adempimenti come la compilazione del piano di studio per esempio che sono sempre un po' traumatici ma noi facciamo di tutto perché non lo siano per così dire l'importante è che voi partecipiate attivamente alle opportunità che vi offre Roma 3 la seconda domanda è inevitabilmente legata agli sbocchi lavorativi cioè una laurea in filosofia nel 2022 come mi prepara alla vita anche alla vita nel lavoro ecco io credo che da questo punto di vista mi riallaccio anche a quello che è stato detto prima di me la filosofia ha una spiccata vocazione alla formazione culturale e di un pensiero critico un pensiero cioè in cui si è abituati a risolvere problemi complessi a confrontarsi con altre forme del sapere a mettere in pratica un bagaglio culturale e teorico appreso all'università questa per esempio è una delle ragioni per cui i nostri laureati oltre agli sbocchi tradizionali che sono l'insegnamento per esempio e che è uno sbocco importante per i laureati in filosofia ma per esempio hanno sbocchi nelle organizzazioni non governative o nell'impresa privata ad esempio nell'ambito delle risorse umane tanti nostri laureati hanno avuto belle carriere proprio in questo ambito perché ai laureati in filosofia viene riconosciuta una profondità culturale una profondità di analisi dei problemi che li rende particolarmente adatti a svolgere questo tipo di lavoro affinché questo accada però è importante che il vostro percorso di studio non sia un percorso diciamo così fisso a Roma 3 ecco è importante che voi studiate a Roma 3 ma guardiate il vostro percorso qui come un punto di partenza per aprirvi ad altre esperienze di studio e anche di lavoro Roma 3 e i nostri corsi vi offrono tante risorse Tirocini Erasmus nel corso nei corsi di laurea magistrale due titoli binazionali uno di logica e uno di storia della filosofia che vi permettono di conseguire la laurea magistrale in convenzione tra Roma 3 e in un caso l'Università di Marsiglia nell'altro la Sorbona a Parigi queste risorse la possibilità di quindi usare l'Università come un punto di partenza verso l'esterno devono essere sfruttate non ha senso chiudersi per 5 anni in questa in questa facoltà anche se è molto bella anche se come dire è bene organizzata e noi il corso di studio in filosofia ha una spiccata vocazione per questo e e proprio per questa ragione l'invito è a iscrivervi e a vedere il territorio diciamo di questa università non come Roma non come meno che mai solo il quartiere Ostiense ma l'intera comunità scientifica con cui potete relazionarvi ultimo punto e poi lascio la parola a chi mi seguirà l'iscrizione al corso di filosofia triennale prevede una prova di accesso che si svolgerà a settembre questa prova di accesso non è selettiva serve per un posizionamento riguardo alle competenze è necessaria peraltro nel caso si abbia un debito formativo è possibile colmarlo in vario modo anche sostenendo alcuni esami nel primo anno che vi permetteranno di colmarlo è necessaria per avere un'idea di come si posizionano gli studenti in accesso ma visto che è un'ambiguità che talvolta porta a qualche fraintendimento non bisogna pensare che l'accesso sia numero chiuso ecco anche se c'è una prova selettiva all'inizio troverete tutte le informazioni qui nel nostro portale speriamo di potervi accogliere come nostri studenti e detto questo do senza salto la parola al professor Luca Verzano che è il coordinatore del collegio didattico Dams e presenterà le iniziative dei suoi corsi di studio grazie al professor Chiara Donna per introduzione vado anch'io sulla home page del Dams ecco qui Dams è un acronimo che sta per discipline delle arti della musica e dello spettacolo ed è un corso di studi nato una cinquantina di anni fa pochi mesi fa si sono celebrati ecco si sono celebrate ecco si è celebrata la ricorrenza di questo compleanno del Dams che nasce all'università di Bologna come sapete per opera di un circolo intellettuale molto importante da cui un nome molto famoso come quello di Umberto Eco e tanti altri diciamo studiosi e artisti che hanno concorso poi alla fondazione di un corso di studi che permise alle arti diciamo di mettere il piede finalmente all'interno dell'università perché questo piede per lunghi secoli era sempre stato tenuto fuori oggi il Dams è un corso di studi diffuso su tutto il territorio nazionale a Roma 3 diciamo è il Dams più grande più importante forse se posso permettermi dal centro-sud al centro-sud dopo quello di Bologna il terzo in ordine cronologico per nascita dopo quello di Bologna e quello della Calabria di Cosenza e conta a 9 da circa 2.000 studenti al suo interno di tutti i suoi corsi di studi che sono uno triennale e due magistrali perché scegliere il Dams in realtà è di solito è il Dams che sceglie le persone cioè la vocazione per le arti è un po' al contrario cioè sono le arti quasi che sceggono le persone che vogliono poi praticarle e viverle lungo il corso dei propri studi e della propria carriera quindi ecco si sceglie un po' in questo modo un corso di studi del genere le possibilità di lavoro come vedremo sono molteplici soprattutto a Roma ma prima di arrivare a questo voglio mostrarvi un po' come è strutturato il corso di studi questa che vedete che potete anche scaricare è la guida però vecchia dell'anno in corso perché la nuova per ragioni diciamo di ordine amministrativo ancora non è pronta perché ci vuole un'approvazione del consiglio di dipartimento che sarà poi il 6 aprile quindi oggi ancora non è possibile pubblicarla ma sarà più o meno la stessa con un'importante novità che adesso vi dirò i percorsi sono due teatro, musica, danza cioè le arti performative e il percorso invece cinema, televisione e nuove media cioè il mondo dell'audiovisivo sono diciamo le due settori importanti delle discipline delle arti cioè quelle dal vivo per capirci e quelle insomma che vivono invece nel video parto dal percorso teatro, musica, danza e vedete che è strutturato come tutti i corsi di studio universitario in attività di base cioè attività comuni a tutti che sono di disciplina di cultura chiamiamola così generale per capirci quindi storia letteratura sociologia e così via e poi abbiamo le attività caratterizzanti non so se riuscite a vedere bene se bisogna ingrandire riuscite? vedete? no devo ingrandire un po' e chiedo anche di mandare a casa ovviamente quello che sto proiettando vediamo se riesco anche così meglio? ok allora vedete che ci sono i cosiddetti settori scientifico disciplinari cioè queste sigle che denominano le varie discipline alle art 06 cinema, televisione eccetera che è presente in tutti i percorsi cioè sono alcuni esami che sono comuni di tutti i percorsi cioè quelli fondamentali storia del cinema storia del teatro storia della musica che tutti gli studenti poi devono fare indifferentemente dal percorso che loro poi scelgono all'interno del corso dei studi abbiamo poi vedete storia della performance musicale storia del melodramma cioè dell'opera lirica del teatro musicale e poi vari esami di area teatro spettacolo danza culture teatrali eccetera storia e pratica dell'attore teatro spettacolo performance che sono gli esami più importanti di questo in questo ambito a cui si aggiunge quest'ambito le affine integrative che sono discipline che completano la formazione dello studente offrendo la possibilità di approfondire dei territori adiacenti diciamo le discipline principali in questo caso noi abbiamo scelto di dare agli studenti la possibilità di conoscere meglio il mondo diciamo dell'organizzazione dello spettacolo della sua produzione che è poi quello che offre diciamo le maggiori possibilità di lavoro una volta conclusi gli studi e quindi vedete modelli gestionari di teatro processo produttivo di uno spettacolo e poi è scelta tra argomenti comunque interessanti come estetica musicale fisica persone della luce che è un territorio di intersezione tra la scienza diciamo le arti e poi la filosofia del linguaggio che sono poi discipline generali del nostro dipartimento come avete sentito dai colleghi che mi hanno preceduto questa sezione qui è scelta ci sono gli esami che si possono mettere a vostra secondo vostro desiderio quindi scelta libera e poi una cosa molto importante ci sono le abilità linguistiche che sono il B1 di solito per gli studenti che devono fare il triennio se lo avete già con certificati potete chiedere anche il riconoscimento quindi evitare di fare questi segreti in più oppure e poi oltre questo ci sono i cosiddetti laboratori vedete e tirocini che sono le attività pratiche nel nostro corso di studi quindi laboratori di atti dello spettacolo e di creazione di imprese culturali in cui gli studenti hanno la possibilità decimentarsi poi nella pratica della preparazione o dell'organizzazione della progettazione di un evento culturale e anche nella conoscenza un po' della cosiddetta polvere del palcoscenico che diciamo che fa sempre bene respirare un po' quando ci si deve occupare di cose non soltanto teoriche come è appunto il mondo dello spettacolo e una cosa importante il Dams in tutti i suoi percorsi offre la possibilità di interagire con le maggiori istituzioni culturali della città di Roma nel campo dello spettacolo e non solo vi cito le più diciamo note la festa del cinema di Roma il teatro dell'opera di Roma l'auditorium il teatro di Roma e tante altre insomma che adesso mi risparmio insomma tutte le istituzioni più importanti sono in collegamento con noi e mandiamo di solito i nostri studenti a fare tiroscini appunto per chi vuole perché è molto cioè fondamentale per gli studenti del Dams ma credo un po' per tutti gli studenti incominciare fin da subito a farsi conoscere in ambiente lavorativo quindi accompagnare allo studio sui libri diciamo in classe anche le esperienze esterne quindi andare per esempio a fare un tiroscino al festival del cinema alla festa del cinema di Roma oppure andare al teatro dell'opera oppure andare all'accademia come Santa Cecilia o al teatro poi insomma sono molteplici possibilità e non da ultimo abbiamo un teatro universitario un teatro palladio che forse diciamo l'esperienza che lo studente può fare più facilmente vi faccio vedere la home page dove diversi i nostri studenti trovano anche lavoro possono fare l'esperienza e lavorare appunto alla progettazione culturale o semplicemente anche vedere gli spettacoli a costo molto ridotto questi sono i prossimi vedete ed è una struttura molto importante per la formazione dei nostri studenti perché lavorando all'interno di questo di questo teatro comunque facendo seguendo i vari festival facendo i tirocini è possibile poi prendere i primi contatti con il mondo lavorativo e con il vostro diciamo futuro professionale potete poi chiaramente guardare anche un po' per conto vosso tutte queste queste cose che vi sto dicendo e importante ancora dire che appunto tutti diciamo queste attività comportano una presenza all'interno dei diciamo dei nostri corsi di professionisti del settore cioè i docenti a contratto di cui parlava prima il direttore sono in realtà esperti che lavorano già nel mondo del cinema sui set sono registi autori sceneggiatori con i quali è importante poi prendere contatto perché vi daranno poi un aiuto un'indicazione un canale privilegiato per poi proseguire nel mondo professionale passo al percorso cinema televisione nuovi media come vedete che ha la stessa caratteristica dal punto di vista strutturale ma che ha offre chiaramente nelle discipline caratterizzanti e a fine integrative dalle cose diverse altrimenti non sarebbero due percorsi scusate la banalità ma ogni tanto ci vuole a lezione quindi qui anche vedete esami di base teatro e musica e poi tutti gli esami caratteristici caratterizzanti nel percorso cinema quindi analisi del testo filmico cinema italiano culture e formati della tv della radio estetica del cinema istituzioni di regia culture e formati della tv della radio storia del cinema e così via non ve ne numero tutti perché non c'è tanto tempo a fine integrative stesso discorso vedete legislazione normativa editoriale cioè i problemi del diritto d'autore per capirci la contrattualizzazione degli artisti tutte queste problematiche qua e organizzazione e gestione molto importante l'impresa cinematografica e audiovisiva e ancora qui vedete scelta di altre discipline in parte comuni col percorso precedente e un'ampia scelta anche qua di laboratori pratici dal filmmaking alla sceneggiatura alle arti digitali alla distribuzione del prodotto audiovisivo anche qui offerta di tirocini possibilità varie di cui ho parlato già prima la novità che volevo introdurre è la nascita diciamo per il prossimo anno accademico di un terzo percorso Dams che qui non vedete perché la guida dell'anno precedente che si chiamerà nuove professioni dell'audiovisivo che darà insomma uno sguardo un po' alle interazioni tra il mondo dell'audiovisivo della musica e del teatro e della danza in video diciamo che avrà anche la caratteristica di dislocare una parte diciamo delle lezioni anche fuori Roma in una sede diciamo importante che è quella della città di Latina per cui gli studenti che vengono da quel bacino magari avranno una possibilità più semplice di frequenza delle lezioni fermo restando che tutte le lezioni saranno anche di solito vengono teletrasmesse a distanza come stiamo facendo oggi quindi sono frequentabili anche da casa online cioè in soluzione mista come stamattina c'è una parte in classe e una parte che segue da casa tutte e due diciamo questi fondamentali indirizzi teatro musica danza e cinema televisione nuove e media poi conducono alle magistrate due magistrali questa volta separate che sono una teatro teatro musica danza dams teatro musica danza laurea magistrale con due indirizzi a sua volta divisa in teatro danza e musica quindi specialistici alla magistrale e dall'altra parte una laurea invece in cinema produzione multimediale che ha al suo interno un percorso internazionale che si chiama IMAX che offre la possibilità di svolgere la laurea magistrale in collaborazione con una rete di università europee e quindi di estendere diciamo le proprie conoscenze anche al di là del nostro dipartimento e quindi di frequentare praticamente più università anche straniere insieme offriamo ovviamente anche noi la possibilità di fare Erasmus e tutte le altre cose che avete già sentito dai miei colleghi mi sembra di non aver dimenticato nulla di importante quindi vi ringrazio e ci vediamo spero a lezione l'anno prossimo arrivederci io sono Valentina Cavalletti dell'ufficio orientamento ringrazio ringrazio i docenti per questa importante introduzione ai corsi di laurea cerchiamo di orientarci all'interno di tutto ciò che ci è stato detto stamattina faccio un po' il vostro avvocato noi ci occupiamo proprio di occupare di curare i rapporti con le scuole superiori come ufficio orientamento pensate che con le giornate di vita universitaria ogni anno incontriamo circa 6.000 sottimila studenti e studentesse ogni anno con questo ciclo di incontri saluto anche tutti i ragazzi e le ragazze che ci stanno seguendo da casa sono più di 150 quindi insomma siete molti le giornate di vita universitaria sono proprio un'occasione per orientarci vedete quante informazioni vi stanno arrivando no? stamattina è importante però che voi vi attiviate il nostro compito un po' è questo quello di cercare di sollecitare le vostre domande i vostri dubbi le vostre perplessità e cercare anche di dare delle risposte considerate che sappiamo perfettamente che questo è un momento di passaggio importante cruciale nella vostra vita e sappiate che non vi lasceremo mai soli una volta che entrate in questo mondo universitario ci sarà un momento tra poco con le testimonianze degli studenti e delle studentesse di Roma 3 che adesso chiameremo qui a fare insomma la loro presentazione e soprattutto un momento del dibattito che a quale teniamo moltissimo quindi pensate alle vostre domande perché cercheremo di rispondere anche da casa potete potete continuare a fare a scrivere sulla chat che ci sono i nostri colleghi delle segreterie didattiche che vi stanno rispondendo una importante notazione l'attestato di partecipazione per giustificare la vostra presenza la vostra assenza a scuola lo potete ritirare semplicemente rientrando nel sistema di prenotazioni dove avete appunto prenotato l'incontro la presenza qui e anche online rientrate con le vostre credenziali e vi scaricate l'attestato quindi abbiamo detto l'orientamento è un processo lungo lunghissimo che avete iniziato da bambini senza neanche magari accorgervene attraverso la vostra curiosità le vostre ambizioni che vi hanno appunto un po' cercato come un po' diceva anche il professore le arti a volte ci cercano è un po' tutto così però oggi dobbiamo fare una scelta consapevole quindi informarsi attivamente cercare quelle risposte di cui parlavo prima è fondamentale attraverso i siti e attraverso gli uffici competenti non vi affidate mai al sentito dire mi hanno detto mi hanno fatto perché poi noi poi ci ritroviamo a ricevere domande di persone magari che hanno perso l'occasione di iscriversi di fare un corso un percorso importante è fondamentale affidarvi ai siti ufficiali dell'Ateneo e appunto proprio perché in questo passaggio dalla scuola università abbiamo più autonomia e avrete tanta più autonomia ricordatevi sempre la parola responsabilità accanto a questa autonomia perché per gestire la diversa gestione del tempo e dello spazio le tante opportunità che come avete sentito l'università vi offre è importante essere vigili per accogliere le grandi opportunità che vi offre vivere l'università a 360 gradi avete ascoltato dalle guide che vi sono state anche mostrate che il percorso universitario si svolge con un percorso di triennale di 180 CFU più due anni di magistrale più poi c'è tutta l'offerta post laurea ma che vi invito ad andare già a guardare perché è importante per farvi rendere conto anche dell'offerta formativa completa dell'Ateneo i crediti formativi di cui vi ha parlato i professori vi hanno fatto vedere delle guide dove c'è questa parola continua i CFU sono delle unità di misura semplicemente che diciamo servono a valutare ogni esame a livello quantitativo quindi ogni CFU corrisponde a 25 ore di lezioni frontali di studio individuale e ogni esame vale un certo numero di CFU spero che questa piccola guida di vocabolario vi possa essere utile in più gli esami si possono sostenere durante tre sessioni annuali gennaio febbraio giugno luglio e settembre e le lezioni iniziano ad ottobre primo semestre secondo semestre inizia a marzo quindi a breve però anzi qui già sono ovviamente iniziate le lezioni del secondo semestre tutte le guide di tutti i corsi di laurea oltre ad essere presenti ovviamente nei siti del dipartimento sono anche online sul sito di Ateneo è all'interno di questi siti e dove trovate tutti gli esami del primo secondo e terzo anno che sicuramente vi servono veramente molto in questa fase di orientamento per capire quali sono proprio le materie che vi aspettano al primo anno di corso per orientarsi a Roma 3 è importante già sin d'ora conoscere il sito di Ateneo uniroma3.it qui è come vi segnalo come immatricolarsi a Roma 3 come ci si immatricola a Roma 3 sono già usciti i bandi di accesso vi sono già arrivate le email credo a tutti voi ditemi di sì sulla vostra posta per segnalarvi che sono appunto usciti i bandi per andarveli a guardare comunque e a leggere con attenzione appunto per non perdere per non perdere la le scadenze andate su uniroma3.it andate sul portale dello studente andate dentro la pagina ammissioni e immatricolazioni all'interno del portale dello studente trovate un'importante pagina sulle tasse e le agevolazioni importanti uffici come quello appunto della disabilità e per gli studenti con disabilità e DSA abbiamo un sistema bibliotecario fondamentale importantissimo di tutte le aree dell'arte giuridica scienze economiche e ovviamente anche quella umanistica e qui insomma se volete dopo potete anche andare a fare un salto a vedere gli spazi che vi accoglieranno in biblioteca abbiamo un centro linguistico di Ateneo che vi accompagnerà per superare le idoneità linguistiche obbligatorie ma anche per fare le esperienze all'estero di cui tutti vi hanno parlato Lazio Disco è un'agenzia per il diritto allo studio che vi invito a guardare per eventuali contributi per il trasporto l'alloggio servizio mensa o borse di studio la possibilità di fare borse di collaborazione vi faccio una carrellata ragazzi ma solo per farvi rendere conto quante sono le opportunità anche di sostegno al vostro studio le borse di collaborazione sono una cosa fondamentale importantissime i ragazzi che vi hanno accolto sono tutti i borsisti che stanno prestando 150 ore del loro tempo ovviamente retribuite per vivere e supportare il loro studio all'università ma anche per comprendere come funziona questa macchina a livello organizzativo ed è un'esperienza diciamo lavorativa molto importante che potete fare supportati dall'Ateneo durante il vostro percorso di studi e poi tante iniziative come lo sport a Roma 3 l'orchestra il coro polifonico il teatro di cui vi hanno anche parlato che peraltro insomma vedono filosofia comunicazione e spettacolo abbastanza centrali ovviamente una radio insomma tante opportunità che io spero che voi possiate vivervi al mille per mille adesso lascio la parola ai vi aspettiamo anche a orientarsi a Roma 3 a luglio che sarà un altro evento di orientamento che speriamo di poter svolgere in presenza nuovamente in rettorato e chiamo qui mi taccio aspetto tra poco le vostre domande ma soprattutto adesso lascio la parola e chiedo agli studenti di Roma 3 Martina Vita del Dams Chiara Siderati di filosofia e Simone Matteis di comunicazione a lasciare qui le vostre testimonianze che spero siano importanti per i ragazzi per entrare un po' in empatia anche con le storie di chi frequenta l'Ateneo Prova Funziona se è un ordine oppure andiamo ok buongiorno a tutti e tutte io sono Martina Vita e sono una studentessa del Dams ad ora studentessa magistrale del biennio del corso cinema televisione e produzione multimediale perché ho scelto il Dams oggi appunto vi voglio parlare un pochino del mio percorso sia trennale e accennarvi anche quello magistrale che sto affrontando ad ora per diciamo un po' introdurvi alla mia facoltà perché ho scelto il Dams diciamo che fin da piccola e soprattutto soprattutto alle superiori mi è sempre interessato un po' l'ambito l'ambito dello spettacolo dell'audiovisivo e della performance e quindi ho sempre tenuto come focus come obiettivo come oggetto di attenzione nel mio caso particolare il cinema il cinema però sì come esperienza di fruizione come esperienza emozionale ma anche il cinema come oggetto di analisi ho sempre ho sempre voluto scoprire quali erano poi alla fin fine i meccanismi dietro all'esperienza cinematografica all'esperienza poi dello spettacolo in generale e come come si costruisce poi questa esperienza e come diciamo gli addetti ai lavori tra virgolette realizzano un po' tutto l'ambito audiovisivo e performativo quindi ho deciso di iniziare questo percorso proprio con questa intenzione non del fare io personalmente il cinema ma ma capirlo ma comprenderlo e il Dams mi ha fornito durante il triennio ma soprattutto durante durante il percorso magistrale proprio gli strumenti metodologici teorici per comprendere l'estetica e il funzionamento poi dell'opera audiovisiva e dell'opera performativa il Dams è strutturato attraverso un percorso di esami che permette che spazia un po' dalla storia poi fondamentalmente delle arti dalle teorie che sottostanti poi alla costruzione proprio dell'esperienza spettatoriale e e anche attraverso laboratori pratici che sono fondamentali perché sì è importante sapere la storia è importante avere gli strumenti analitici e metodologici ma è importante poi anche come dicevano i professori precedentemente entrare entrare in questo in questo ambito e in particolar modo l'ambito l'ambito dello spettacolo è importante conoscerlo da dentro il Dams fornisce la possibilità di entrare a contatto con esperti del settore infatti penso che una delle delle opportunità da cogliere quando si fa il percorso triennale e anche quello magistrale è partecipare a tutte le iniziative che sono tantissime organizzate organizzate dalla facoltà da convegni dai tirocini come diceva il professore Aversano prima il Dams svolge in collaborazione con le più grandi con i più grandi enti della capitale il teatro palladium che è diciamo proprio un polo quasi di esperienze performative vari vari convegni vari eventi si svolgono quasi settimanalmente quindi è importante lo studio ma il Dams in particolare è diciamo una facoltà che permette allo studente di entrare già dall'ambito universitario in questo mondo ed è una cosa che lo studente deve cogliere al volo per quanto riguarda poi il corso di studi in generale ecco nel mio caso particolare sono studentessa di cinema diciamo che gli esami i corsi universitari vertono appunto sull'acquisizione di strumenti metodologici di analisi che permettano poi di scomporre e ricomporre in qualche modo il prodotto filmico ma anche quello performativo quindi del teatro della musica e della danza appunto ricordo che ci sono due canali speculari diciamo del corso di laurea e dance quello triennale di cinema televisione e nuovi media e quello invece di teatro musica danza in particolare cinema appunto come dice il nome stesso cinema televisione e nuovi media non si concentra solamente sul sul cinema ma appunto anche su i nuovi media ma anche su media appunto come la televisione e la radio ci sono dei laboratori pratici di format televisivo di operatorio radiofonico ad esempio ma anche di fotografia anche di appunto sceneggiatura cinematografica e sono opportunità appunto formative da questo punto di vista come diceva la dottoressa prima l'università mette a disposizione proprio anche delle borse di collaborazione che permettono allo studente un po' di iniziare a capire com'è il mondo del lavoro dentro l'università le borse di collaborazione vanno dall'assistenza alla segreteria dall'assistenza bibliotecaria quindi è proprio un modo per iniziare ad entrare nell'ambito lavorativo poi comunque ci sono altri percorsi per esempio il percorso Erasmus e appunto tutti gli eventi tutte le iniziative che permettono appunto di coinvolgere lo studente io personalmente devo dire che a seguito proprio del mio percorso triennale sono rimasta molto molto soddisfatta dagli strumenti appunto che mi ha dato il Dams al momento collaboro con delle testate online di critica cinematografica quindi diciamo che il mio percorso in particolare mi ha permesso di mettere poi in atto anche in ambito lavorativo tutti quegli strumenti atti proprio all'analisi dell'analisi del film ma non solo perché comunque il Dams permette di sviluppare questi 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 diciamo queste metodologie critiche ma anche dalla possibilità di di entrare proprio in contatto con vari enti anche per l'organizzazione di eventi cinematografici o addirittura di cinematografici ma anche teatrali ma anche di collaborare con vari enti televisivi radiofonici come assistenti alla regia eccetera eccetera quindi vi da gli elementi per poi spenderli nel mondo del lavoro anche poi successivamente magari con corsi più pratici il mio intento poi futuro sarà quello di continuare il percorso universitario dopo la magistrale con un dottorato di ricerca che appunto la magistrale permette di di frequentare e poi io in realtà spero proprio di rimanere nell'università dall'ambito lavorativo proprio dal punto di vista dell'insegnamento buongiorno mi sentite spero buongiorno a tutte e tutti allora io mi chiamo Chiara Siderati sono una studentessa al quinto anno della laurea magistrale in scienze filosofiche il mio percorso qui a Roma 3 ecco comincia subito dopo il mio diploma di liceo classico conseguito nel 2016 anno in cui poi accademico in cui mi sono iscritta alla facoltà di filosofia e è molto lineare il mio percorso ho deciso di continuare sia dall'addennale che in magistrale a studiare filosofia proprio per tutte quelle caratteristiche che già i professori ben prima esponevano quindi la possibilità di avere questo sguardo molto critico questa forte argomentazione verso non solamente magari i testi che leggiamo e che ci vengono dati durante gli esami ma verso tutta la realtà molto difficile anche rispetto a quello che ci troviamo a vivere oggi quindi ecco un po' se qualcuno mi chiede perché scegliere filosofia sicuramente è questo il corso di laurea appunto si articola in una triennale generale in nominata filosofia L5 in cui viene data una base prettamente storico-filosofica ma anche con una grande possibilità di esplorare molti dei campi della filosofia quali possono essere quello della logica dell'epistemologia dell'ontologia dell'estetica della politica dell'etica quindi ecco c'è questo mare magno poi no di argomenti interni alla filosofia che ricoprono poi tutta quanta la discussione critica sull'umano però c'è anche un forte settore interdisciplinare che consiste nella parte del piano di studi che poi quando voi andrete a compilare sarà degli affini integrativi e dei caratterizzanti in cui appunto abbiamo la possibilità di spaziare molto anche sui nuovi ambiti che si interessano della filosofia e di cui la filosofia si interessa come sono appunto le neuroscienze e tutte quelle nuove discussioni interdisciplinari legate alla scienza naturale alla scienza del cervello al come pensiamo come ragioniamo dal punto di vista ecco lavorativo così faccio un quadro generico un po' per tutti e poi racconto la mia esperienza personale dal punto di vista lavorativo sicuramente quello a cui apre la filosofia è l'ambito di insegnamento a 19 quindi scuola superiore storia e filosofia detto questo ovviamente non c'è solamente questo ambito ce ne sono molti altri a cui appunto neanche si pensa perché siamo molto abituati a vedere la filosofia come un settore prettamente accademico invece appunto ha questo grandissimo settore fattore di critica che ci permette di andare a lavorare ad essere anche molto pavabili come candidati dal punto di vista delle risorse umane quindi tutta la gestione del personale aziendale dal punto di vista delle organizzazioni non governative dal punto di vista dei servizi sociali Roma 3 rispetto a tante altre università offre una serie infinita anche di master di primo e di secondo livello che potete scegliere per appunto poi specializzarvi in questi ambiti c'è anche l'ambito della consulenza filosofica che oggi è sempre più richiesta quindi ecco questo per fare un po' un prospetto generico per quanto riguarda la mia esperienza io appunto sono all'ultimo anno mi sto specializzando in un settore che si chiama estetica rapportato alla filosofia politica e mi sono trovata molto bene qui a Roma 3 soprattutto per la vastissima gamma di possibilità che l'università offre come quella appunto di molto supporto di sportelli didattici come le dottoresse di cui le dottoresse si occupano la possibilità di essere integrati a livello universitario in modo non traumatico quindi comunque questo grande dialogo sia tra studenti sia tra studenti e professori mi sono trovata anche veramente ad avere grandi conversazioni soprattutto a livello di laboratori e di ricerche che poi si fanno all'interno dei vari settori di filosofia nei vari diciamo contesti di laboratorio di insegnamento che l'università mette e l'Ateneo mettono in moto e poi c'è questa possibilità appunto dell'Erasmus che in particolare per filosofia come diceva già il professor Chiaradonna è molto diciamo fruttoso perché dà la possibilità di conseguire a livello magistrale i doppi titoli e quindi a per esempio specializzarsi nell'ambito della matematica della logica con l'università di Marsiglia oppure di specializzarsi nell'ambito della storia della filosofia con l'università della Sorbona di Parigi e quindi ecco a parte questo la mia esperienza particolare è stata soprattutto quella di lavorare in collaborazione con l'università con queste borse di collaborazione quali assistenza alla biblioteca oppure anche quello che sto facendo oggi quindi oltre a raccontarvi un po' la mia esperienza fare da tutor didattica quindi fare anche da tramite tra il mondo che è scolastico e quello universitario del rapporto di voi studenti con poi i docenti universitari e non solo e quindi ecco questa è un po' la mia esperienza io vi ringrazio di essere qui oggi e spero che l'anno prossimo sarete con noi ah e una cosa che volevo dire ci potete seguire sui nostri canali social facebook e instagram e poi ovviamente il sito che già il professor Chiaratanna ha fatto vedere e abbiamo anche un canale youtube in cui vengono caricati molti video per esempio uno dei più interessanti è stato quello della giornata mondiale della filosofia del 2021 e poi tanto altro materiale ecco quindi grazie e buon proseguimento ecco qui buongiorno a tutti sono Simone Matteis del corso di comunicazione la collega di filosofia mi ha rubato la chiusura sullo spot promozionale per seguire i corsi di studio però la riprendo in quanto parlando di comunicazione credo che sia fondamentale anche per voi che vi approcciate a entrare a far parte della nostra comunità universitaria comunque sapere che ci sono tanti canali per essere sempre informati e aggiornati su quelle che sono le iniziative dell'università quindi grazie Chiara dell'ottimo assist e te lo rubo volentieri allora dicevo io ho studiato scienze della comunicazione interennale e ho fatto la magistrale ho concluso la magistrale in informazione editoria e giornalismo non mi dilungherò nel raccontarvi come sono strutturati i corsi perché penso che la professoressa Ianelli abbia fatto un quadro molto preciso e molto ben strutturato ci tengo però a sottolineare un aspetto secondo me importante che si è notato ovvero di quante sono le varie discipline che si studiano nel corso di scienze della comunicazione quindi anche soltanto alla trennale ci sono corsi che vanno dalla linguistica alla filosofia alla psicologia fino allo studio di radio televisione giornalismo e nuovi mezzi di comunicazione io per esempio sono entrato in questo corso di studi ho scelto dopo il liceo di intraprendere questo percorso di studi mosso dalla passione per il giornalismo e la stessa passione e la stessa idea poi in ottica futura mi ha spinto senza pensarci due volte a scegliere la magistrale sempre qui a Roma 3 secondo me una cosa fondamentale che è giusto dire in un momento come questo e mi fa particolarmente piacere vedere finalmente possiamo dirlo una lamagna di nuovo piena di studenti anche delle scuole superiori è proprio questo cioè qui la mia esperienza personale ma credo di parlare a nome di tanti studenti è stata quella di riuscire a trovare finalmente dopo il liceo anche entrando in un mondo così grande così vasto come l'università trovare in realtà un contesto in cui docenti e studenti in realtà sono molto più vicini di quello che sembra io provo a rimettermi nei panni di quando avevo la vostra età non troppi anni fa in realtà e quindi ero comunque un po' titurbante un po' spaventato dall'entrare all'università mi ricordo alla prima lezione eravamo in aula 2 qui sotto forse ci scenderete dopo probabilmente eravamo talmente tanti che oggi in epoca covid con le mascherine e il green pass è impensabile eravamo talmente tanti che le prime lezioni le facevamo seduti a terra io poi facendo il pendolare arrivavo in ritardo trovavo tutti i banchi occupati tutti i posti vicino alle colonne qualcuno anche ci sta e vedete che è comodo quando meglio di sedersi a terra per prendere qualche appunto e noi ci trovavamo seduti a terra tant'è che il professore alla fine divise anticipando la didattica a distanza divise metà classe giù in aula 2 e metà classe qui in aula magna questo per dirvi che al di là di questo aneddoto che può fare anche un po' sorridere e che dà l'idea di com'era prima studiare all'università prima del covid è quello che ci speriamo sia anche il futuro dell'università vedere questa questa ola piena penso sia bellissimo per tutti e un po' l'idea è questa cioè un rapporto veramente diretto con professori che si mettono nei panni nostri capiscono le nostre necessità e ci vengono incontro questo vi assicuro è fondamentale ma non è retorica è una cosa che ho notato internale e magistrale l'ho vissuta sulla mia pelle sia da studente che poi anche ad esempio durante il percorso di tesi con i relatori sia internale che magistrale quindi veramente un rapporto molto molto diretto e anche ovviamente tra gli studenti concludo raccontandovi molto brevemente quello che faccio oltre a essere tutor di facoltà e quindi il tutorato è un'altra opportunità insieme alle borse di collaborazione che l'università ci offre e che è un vero e proprio rapporto di tipo lavorativo possiamo dire professionale che va dall'affiancamento delle sereterie per esempio quindi mansioni di tipo amministrativo fino a invece all'affiancamento anche dei docenti una novità credo dell'università in questi ultimi anni quindi un vero e proprio lavoro di tipo didattico oggi io mi occupo di gestione di comunicazione per piccole e medie imprese con una con una agenzia di marketing collaboro con una radio un format internazionale di radio universitaria che si occupa di politiche europee e gestisco diciamo tra virgolette ma non mi ci definisco tale come social media manager una società sportiva queste tre cose potenzialmente collegate tra loro in realtà danno l'idea di quanto sia ampio il campo della comunicazione quanti settori della vita a bracci e quanto quindi sia fondamentale approcciarsi in maniera seria credo allo studio della comunicazione quindi scegliere veramente con con cognizione questo corso di studi perché come vedete io provo a portare nella mia piccola esperienza può aprirvi veramente tante strade diverse che vanno dal giornalismo vi ripeto il mio obiettivo il mio sogno ho studiato per questo e sto continuando ogni giorno a lavorare per questo ma ci sono tanti ambiti nella comunicazione quindi concludo invitandovi ovviamente a scegliere questo corso di studi se vi interessa se credete che questo possa essere veramente il vostro futuro ma anche se siete come dire incerti e volete provare a fare di questo il vostro futuro il vostro mondo un domani ma vi invito a essere come dire molto propositivi quando a settembre o a ottobre entrerete in queste aule perché qui troverete una comunità pronta ad accogliervi e vi si richiederà qualcuno lo ha detto prima vi si richiederà che voi stessi sarete i primi a mettervi in gioco e non abbiate paura in questo perché troverete veramente un ambiente fertile per farlo persone che vi daranno una mano e che cercheranno in tutti i modi di supportare questa vostra partecipazione quindi credo che questo sia da parte mia il migliore augurio per voi ovviamente non solo per i futuri studenti e studentesse di comunicazione ma in generale per tutti i studenti dell'università grazie dell'attenzione che belli questi applausi per voi grazie Martina Chiara e Simone per le vostre belle testimonianze chiedo a Viorica di avvicinarsi per portare il microfono a voi adesso tocca a voi ascoltiamo le vostre domande da casa continuo a dire che potete continuare a scrivere perché deve diventare verde la lucina vi ricordo nel frattempo che alzate la mano e ci fate appunto le vostre domande chiedo anche ai docenti magari di tornare in cattedra in modo tale che possiate rispondere direttamente alle domande degli studenti che tra un quarto d'ora si magari no potete anche rimanere però ecco insomma lasciamo la parola ai docenti e immagino abbiamo domande anche per voi ragazzi adesso tra poco ci saranno tre lezioni vi ho messo il programma che avete anche ricevuto via mail qui sul sullo schermo chiedo anche ad Andrea se lo può alla regia se lo può mandare anche a casa le lezioni sono tre una sarà in aula due proprio esattamente qua sotto come diceva Simone corso di laurea scienze della comunicazione giocare con i pensieri logica e ragionamento critico a cura del professor Roberto Cioni intanto ve le leggo così iniziate a pensare dove volete andare a seguire la lezione il corso di laurea in filosofia si terrà in aula 22 una lezione la filosofia tra storia e invenzione a cura del professor Chiara Donna e la professoressa Angelucci e il corso di laurea in in Dams chi è interessato può rimanere qui in aula magna ci sarà una lezione su come si studia un film il caso di Stanley Kubrick a cura del professor Carocci ok questo dalle 11 e mezza in poi ora abbiamo un quarto d'ora 20 minuti per le vostre domande quindi alzate la mano e Viorica la nostra borsista che ringrazio eccone una qua Viorica alzate bene le mani altrimenti Viorica non vi vede per favore un po' di silenzio ragazzi scusate Sente No volevo chiedere per la laurea in Dams uno se aveva la certificazione L3 tipo per esempio come piano vivo andare a fare il professore d'italiano per esempio cioè potrei farlo facendo una laurea in Dams Allora le lauree triennali non consentono di insegnare ci vuole la magistrale che non è un L3 ma nel caso di discipline nostre si chiama LM65 e che consente l'accesso a determinate classi di concorso non a tutte mi sembra che questa qui di italiano riguardi la possibilità di insegnare nelle scuole medie e altre classi di concorso delle scuole superiori soprattutto quelle di ambito artistico in realtà non conviene fare un laurea ad Dams per insegnare l'italiano perché poi quello che succede è che il ministero praticamente chiede tutta una serie di esami nell'area diciamo di italianistica quindi di letteratura lingua italiana che sono non sono proprio quelli specifici del nostro corso di l'arro quindi bisogna fare poi degli esami in più sì sì era per come posso dire un piano B ecco come posso dire comunque volevo fare anche un'altra cosa un'altra domanda ma per esempio per cinema ho visto che come laboratori ci stavano 18 CFU da fare quindi tre laboratori perché erano tutti da sei ma si possono aggiungere per esempio se io vorrei vorrei fare altri laboratori potrei aggiungerli magari al posto di fare per esempio ci sono degli esami a scelta posso mettere dei laboratori è possibile ovviamente i laboratori che non sono stati poi scelti per l'ambito delle attività altre dove sono previsti possono essere inseriti in attività scelta che sono a scelta vostra quindi potete fare quello che volete quindi potete recuperare esami o laboratori che non avete potuto inserire nella scelta diciamo quella obbligatoria che dovete fare perfetto grazie salve buongiorno io volevo fare soltanto un appunto posso chiedere se potete rimettere la foto di scienze della comunicazione che ci stanno le caratteristiche iniziali cioè non la slide iniziale di scienze della comunicazione solo per fare una foto grazie mille grazie a tutti Grazie. Salve, buongiorno. Una domanda, ma per l'iscrizione, perché ho cercato sul sito, non ci ho capito molto, uno deve iscriversi al portale dello studente e poi tipo nel mio caso che io ho fatto il test d'ammissione perché ho partecipato al PCTO Sound of Silence con il prof. Stavversano e ho anche dato l'esame perché ho fatto il PCTO verso l'università. Come avviene? Non l'ho proprio capito, io l'esame dato, non so l'esito, non so come iscrivermi, non so. No, forse ha fatto il percorso di quello delle PCTO per risparmiarsi, diciamo, il test di valutazione. Sì, sì, sì. E vabbè, si iscrive e non deve fare il test di valutazione. No, sì, non ho capito proprio come iscrivermi, è diverso. Guarda, è molto, bisogna leggere attentamente il bando, è una prova di comprensione del testo, che se superate riuscite poi a immatricolarvi a Roma 3, cioè è fatta apposta, capito? Ah, ecco, ok. Scherzo ovviamente, però, diciamo, sicuramente leggere il bando di accesso è fondamentale, te lo scarichi, cioè il consiglio che do spesso è non lo leggere dal cellulare, perché un bando di ammissione è una qualunque norma che voi dovete leggere per fare un qualunque concorso, non potete pretendere di comprenderla dal cellulare, ok? Allora, vi mettete davanti al computer, dedicate mezz'ora, un'ora del vostro tempo a leggere attentamente, magari ve lo stampate, e poi diventa un po' il vostro, la vostra guida, perché vi assicuro che in realtà all'interno del bando ci sono proprio i paragrafi che ho scritto come bisogna preiscriversi, come bisogna immatricolarsi, quando ci sono le prove, c'è scritto tutto. Quindi ti assicuro che se dedichi il giusto tempo e la giusta attenzione riuscirai assolutamente a comprendere tutto. In ogni caso, all'interno di ogni bando ci sono anche i contatti utili, quindi se avete qualunque tipo di problema, e oltre che un help desk che vi aiuta anche da un punto di vista tecnico, quindi usare tutti i contatti che sono scritti all'interno di ogni bando di accesso, d'accordo? Ok, perfetto, grazie. Grazie a te. Ciao, io ho tre domande proprio veloci, veloci. Alla prima, scienze della comunicazione, si deve fare anche lì tipo un test per entrare, tipo quello di filosofia oppure no? Sì, la prova di accesso è comune per tutti i corsi di laurea, però anche nel nostro caso non c'è il numero chiuso, quindi una volta che voi avete fatto la prova e se la superate non c'è nessun problema, ma altrimenti potrebbero esservi attribuiti degli OFA che poi potete andare con il superamento di alcuni esami a compensare. C'è il numero aperto pure quella. Non vi dovete preoccupare di questo, insomma. Sì, sì, sono tutti a numero aperto. È tutto, sì, sì, per tutti tutti. Sono test di valutazione e non di accesso. Ok, ok. L'altra invece era per filosofia, cioè non ho ben capito molto quei percorsi interdisciplinari con la scienza e queste cose qui. Sì, allora la filosofia ha un piano di studio, anche qui basta andare sul nostro portale e visualizzare un po' gli esami da sostenere. C'è un gruppo di discipline di base a caratterizzanti molto definito, sono discipline filosofiche, sono discipline storiche e così via. Poi c'è un ricco gruppo di discipline a fine integrative, nella triennale e nella magistrale, in cui il nostro corso, proprio in collaborazione con gli altri corsi del Dipartimento, dà un grande accento non solo a discipline storico-filosofiche e letterarie, ma per esempio ad ambiti come filosofia della fisica, come informatica. Ci sono insegnamenti ovviamente anche di epistemologia, filosofia della scienza. In questo modo si può personalizzare il proprio percorso di studio legando la filosofia a questo tipo di insegnamenti che sono molto ben rappresentati nel nostro Dipartimento. Era un po' quello che intendevo dire. Perfetto, grazie. A terza c'entra un po' meno, ma il bagno dov'è? Non lo trovo. In fondo a destra. È ovvio. Grazie. Ciao. Ciao, io volevo fare un paio di domande per l'Adams della magistrale nel Dipartimento Cinema e Produzione Multimediale. Volevo chiedere se nel corso ci fossero più materie o tecniche o teoriche, o se fosse più o meno bilanciato, e se all'interno di quelle tecniche ci fosse qualcosa proprio con l'editing, il montaggio video o cose del genere. E la seconda domanda è quanti studenti ci sono per il classe, corso? Allora, nella laurea magistrale, a differenza della triennale, dove invece c'era possibile fare un laboratorio di editing, che tra l'altro partirà proprio quest'anno, anche sound design, altre cose di montaggio, eccetera. Nella magistrale no, nella magistrale c'è solo un laboratorio che è di critica cinematografica. Gli studenti dei corsi magistrali ovviamente sono di meno rispetto a quelli triennali. Di media, al Dams, un corso triennale può avere in classe un corso obbligatorio per tutti, perché poi ci sono i corsi che tutti fanno e altri che sono a scelta, quindi non c'è sempre lo stesso numero di studenti. Chiaro questo, cioè c'è un corso obbligatorio che tutti devono frequentare, una media di frequentanti sta tra i 100 e i 200 in presenza. Poi molti stanno a casa, come sapete, in questo periodo via collegati sulle piattaforme che noi usiamo, che è Teams per l'Università Roma 3. Poi invece i corsi triennali non obbligatori hanno una media ai 50 e ai 100, invece quelle magistrali chiaramente sono di meno, quindi si sta a 20, 30, di media, 40, insomma questi numeri qua. Quindi più o meno questo. Prego. Salve, io ho un paio di domande per quanto riguarda comunicazione. La prima, ho visto all'inizio, insomma, tutta una lista di materie che si possono fare. Volevo sapere quanti tipi di materie vanno scelte o se vanno svolte tutte. La seconda, che non è proprio su Scienze della Comunicazione, ma sull'Università in generale, è se, diciamo, si potesse alternare un percorso di student-atleta per gli atleti di professionisti o semi-professionisti. Insomma, se ci fosse qualche percorso, l'Università di Bologna ha proprio attivato un percorso dual-treat student-atleta. Era per capire questo, insomma. Grazie. Scusami, e non ho capito la seconda domanda, se mi puoi ripetere. Sì, per quanto riguarda gli atleti professionisti. Ah, gli atleti, sì, scusa, non l'avevo proprio coppato. La devo rifare la domanda? No, no, qui mi stavi chiedendo se c'è un percorso particolare, se ci sono delle facilitazioni. Sì, su questo ti posso dire che il nostro Ateneo in generale è molto attento sia agli studenti lavoratori, sia ovviamente agli atleti, e quindi nello specifico non è tanto il nostro corso di laurea o il Dipartimento, ma proprio l'Ateneo che prevede, nel caso di atleti professionisti, delle facilitazioni. Penso per esempio agli esami, per cui magari se c'è una gara importante si può concordare la data d'esame, oppure rimandarla al giorno seguente rispetto all'inizio dell'appello. Questo riguarda proprio il nostro Ateneo in generale. Quindi sì, ci sono sicuramente dei percorsi. Sì, sì, ecco, prego. Su questo aggiungo una postilla. Potete iscrivervi, qualora vi facesse comodo, sia per il lavoro che per, appunto, questioni sportive, come studenti part-time. Entrando dentro al sito del portale dello studente di cui vi ho parlato, c'è proprio la possibilità iscrizioni part-time, ti vai a leggere esattamente cosa significa. In concreto significa che potrai eventualmente allungare il tuo percorso didattico da tre anni a quanto vuoi tu in realtà, comunque anche fino al doppio degli anni, ok? Quindi pagando ovviamente in relazione a quanti esami tu vuoi fare durante l'anno accademico. Quindi uscendo un pochino dalla classica programmazione triennale, perché comunque se uno ha altri impegni giustamente non riesce a tenere quei ritmi. Sì, ecco, invece per quanto riguarda le discipline che io qui ho elencato, considerate che nel nostro sito, ecco qui l'avevo inserita per farvelo vedere, questa è la brochure, quindi se andate nel sito di comunicazione, proprio Comunica3, troverete la distinzione esatta, come avete visto anche presentata, per esempio dal collega Verzano per Dams, tra tutte le discipline di base, caratterizzanti, affine integrative, a scelta, e i CFU per ognuno di questi blocchi di discipline. Quindi queste che vedete qui sono alcune, quindi non tutti gli insegnamenti, non tutte le discipline che insegniamo alla laurea triennale in Scienze della Comunicazione, sono alcune a titolo esemplificativo. Alcune di queste sono di base, penso per esempio a linguistica, altre per esempio sono delle discipline affine integrative, penso ecco a estetica, altre sono caratterizzanti come il critical thinking, quindi non ho distinto in base alle nostre distinzioni solite, più che altro per farvi avere una panoramica generale e soprattutto per farvi comprendere una cosa importante, che per quanto riguarda comunicazione non c'è propedeuticità, quindi non c'è la necessità di sostenere un insegnamento prima di un altro, potete voi personalizzare il vostro percorso in modo molto flessibile e in questo senso ecco, se avete interesse a comprendere proprio nel dettaglio, vi direi di scaricare la brochure che trovate, questa è quella, questa azzurra è della laurea triennale, poi ne trovate altre due che sono quelle della laurea magistrale, 19 verde e arancione per le scienze cognitive, e lì ci sono proprio le distinzioni tra le discipline e il numero di CFU, quindi vi rendete conto esattamente nel dettaglio quanti insegnamenti in quell'ambito potete sostenere, però ecco la cosa che mi interessava mettere in risalto è proprio il fatto che ognuno di voi può combinare il suo percorso e renderlo il più possibile flessibile e personale, quindi ecco tra queste varie discipline che vedete qui, alcune sono di base, altre sono affine integrative, e altre sono caratterizzanti e ce ne sono altre ancora che trovate nella brochure, ecco, quindi vi inviterei a consultarla per avere un'idea ancora più dettagliata. Grazie. Grazie. E chiederei di raccogliere l'ultima domanda, mi rendo conto che siete, vedo mani alzate, siete in tanti, però non riusciamo, perché sono già le 11.30, a raccogliere tutte le domande, anche a casa ovviamente avete posto tantissime, tantissime, tantissimi dubbi, tantissime domande, vi invito a segnarvi questo indirizzo email, didattica.filcospe, didattica.filcospe, filcospe, chiocciola, uniroma3, treannumero.it, la collega Federica Ubertini, che vi presento, peraltro è stata qui con noi tutto il tempo a risposta alle domande, insomma, con cui collaboriamo costantemente per gli eventi di orientamento e per tutto, vi risponderà, smistando anche le domande, alle specifiche segreterie didattiche. Quindi tranquilli, se continuerete a seguirci, a scriverci, noi vi risponderemo. Quindi raccogliamo l'ultima domanda, perdonateci, ma il tempo è tiranno, come sempre. Buongiorno, ho due domande rapide per il Dams. Volevo chiedere innanzitutto, quali sono, quali sarebbero i corsi degli orari, cioè gli orari dei corsi, scusate, perché io vengo da Napoli, quindi volevo capire un attimo, a che ora cominciano i corsi? Scusi, non sono riuscito a capire agli orari. Volevo sapere, a che ora cominciano i corsi? Allora, di solito, verso l'orario di base, intorno alle 9, 9 e 12, qualche volta, anche alle 8, ma pochi. Ok. Poi di solito si svolgono, molto anche mezza mattina, pomeriggio, per ovvi motivi. Ok. E poi l'altra domanda, prevediva la prova d'ingresso, volevo sapere, quando si deve fare? E la prova d'ingresso, quando si fa il test di valutazione? Leggendo il bando di accesso, per ogni corso di laurea, c'è la data di esplicitata. Ok. Io non lo so, non me lo ricordo. Non le sappiamo tutte a memoria, scusateci, ma insomma, sui bandi trovate tutto quanto. D'accordo? Comunque c'è una composizione musicale di Charles Hives, che si chiama La domanda senza risposta. Quindi tutti coloro che vogliono fare una domanda, potete ascoltarvi questo bellissimo brano cercato su YouTube, The Unanswered Question, di Charles Hives, e potete così soddisfare i vostri dubbi. Comunque, ragazzi, nella prova di valutazione è prevista il 15 settembre, è possibile già prenotarsi, e fino al 7 settembre è possibile la prenotazione. Va bene? Questa è una prima prova. Poi ci sarà una prova di recupero, però invito tutti a presentarsi alla prima prova, così siete pronti per l'inizio delle lezioni che ci saranno a partire dai primi giorni di ottobre. Allora, io ringrazio veramente tutti i docenti e tutti gli studenti, le studentesse che hanno portato la loro testimonianza. Spero che questo incontro per voi sia stato fruttifero. So che avete ancora curiosità, sappiate che anche durante le lezioni adesso potrete fare le domande ai docenti, ci mancherebbe. Ora, io vi chiederei gentilmente, visto che non possiamo alzarci tutti insieme adesso, di riascoltare un attimo. Allora, intanto dico a casa che hanno ricevuto l'email con i link alle tre lezioni che adesso andremo a svolgere. Quindi dateci cinque minuti per attivare i Teams nelle varie aule e ovviamente chi resta qui credo che potrà proseguire assolutamente con il Dams con il link attuale, mi pare, non mi ricordo, abbiamo mandato, abbiamo mandato seguite le indicazioni via mail. Comunque, chiederei agli studenti, alle studentesse interessate a scienze della comunicazione di alzarsi gentilmente e seguire cioè per caso il docente che è già in aula magari potete seguire la professoressa la professoressa Iannelli che vi accompagna in aula 2 quindi se la professoressa chi è interessato ad andare a scienze della comunicazione si può mettere qui alla mia sinistra e seguire la professoressa Iannelli. Gli interessati invece a filosofia si possono mettere sulla mia destra il professore che dice possono seguire il professor Chiara Donna in aula 22 quindi gli interessati al corso di laurea in filosofia possono andare sulla destra e seguire il professor Chiara Donna in aula 22 gli interessati al Dams possono restare qua grazie a tutti facciamo didattica con i nostri studenti e questa mattina la lezione introduttiva è una sorta di assaggio ecco è di critical thinking del professor Cuni il nostro professore di logica ve lo presento e vi auguro una lezione stimolante anche spero interattiva insomma con coinvolgimento attivo bene e spero di vedervi presto qui a Roma 3 vi ringrazio prego Roberto grazie allora perfetto eccoci mi sentite da casa questo microfono per me sarà una dannazione perché io in realtà mi muovo moltissimo ok dunque vi è piaciuta finora la giornata di vita universitaria speriamo che continui a piacervi ok dunque giocare con i pensieri logiche e ragionamento critico di cosa stiamo parlando quando parliamo di logica e ragionamento critico ok un piccolo background soprattutto del perché ne parliamo oggi nel corso di scienze nel corso di laurea in scienze della comunicazione ci sono due corsi che si occupano complessivamente di ragionamento critico e logica uno è il corso di critical thinking per il triennio per la laurea triennale e l'altro è il corso di logica dell'informazione e dell'azione in inglese è tenuto in inglese logic of information and action e che è per la magistrale sono entrambi tenuti da me io mi occupo di queste critica il tempo il ragionamento logica come la logica interagisce con l'informazione come qualitarci a ragionare sull'informazione e se una certa serie di eventi raffinano ci danno più raffinano la nostra informazione ci danno più informazione quindi logica ragionamento critical thinking vediamo un po' vediamo un po' nessun problema ok quindi queste sono un po' le tre discipline che ruotano intorno a questi due corsi logica ragionamento informale ragionamento critico o critical thinking qual è la differenza tra le tre tutte quante a vario titolo sono state definite l'arte di pensare ok in realtà per la logica questa definizione non va molto bene ma andiamo a vedere un po' cosa intendiamo oggi per logica con logica intendiamo la logica è una disciplina che si occupa di studiare il ragionamento valido in quel caso parliamo di logica deduttiva o il ragionamento plausibile in quel caso parliamo di logica non deduttiva logica deduttiva logica attuttiva e così via ok ragionamento valido il ragionamento valido è un ragionamento che ci fa atterrare su una conclusione vera se le premesse sono se le nostre premesse sono vere ci dà questa garanzia il ragionamento plausibile è un ragionamento che ci fa atterrare su conclusioni che sono plausibilmente vere se le nostre premesse sono vere quindi è un po' più debole non si garantisce la verità della conclusione la logica si occupa grossomodo di questi due tipi di ragionamento ok abbiamo anche un approccio la logica lo fa oggi con strumenti molto raffinati strumenti vicini alla matematica usando un linguaggio simbolico ma abbiamo anche un approccio informale che non usa un linguaggio simbolico che ci aiuta ad applicare le regole di ragionamento che la logica definisce ci aiuta ad applicarle in contesti che non sono quelli del rigoroso ragionamento matematico ma sono magari quelli della vita quotidiana insomma il ragionamento informale ci dà una via per applicare quello che ci serve della logica questa disciplina così rigorosa così definita il ragionamento critico è un ulteriore passaggio cioè è la disciplina che ci consente di distinto dei nostri ragionamenti che sono in qualche modo buoni e da quei ragionamenti che sono in qualche modo cattivi cioè si concentra di più sull'esercitare una nostra abilità abilità di riconoscere tipi diversi di ragionamento buoni cattivi e di produrre ragionamenti buoni piuttosto che ragionamenti cattivi di valutare i ragionamenti ok ci sono tantissime altre cose da dire ma è un po' come dicono gli inglesi la loro gerarchia è che l'ordine che vedete qui proprio definisce una gerarchia top down dall'alto verso il basso la logica ti definisce in maniera rigorosa un pacchetto di concetti di tecniche che ti fanno dire ok questo ragionamento vale l'altro no il ragionamento informale di scoglia della parte più teorica più matematica della logica è un modo per occuparli per applicarli e il critical thinking ci fa fare un passo in più all'interno applicativo ci fa dire stagnate i vostri microfoni da camera grazie ci fa dire chiedeteli prima di grazie 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 prof il microfono prof il microfono ok siamo ragazzi allora la logica mi sentite online adesso la logica ci rende consapevoli dei messi logici, dei messi strutturali che ci sono fra gli enunciati di un nostro ragionamento ok e che garantiscono la validità di quel ragionamento o garantiscono che quel ragionamento plausibile funzioni quindi ti fa un passo indietro in termini di astrattezza ti dà qualcosa di più astratto che però ti rende consapevole del perché le ricette del ragionamento informale e del critical thinking funzionano ok dopodiché quindi non è solo una questione di gerarchia ma anche delle consapevolezze che abbiamo grazie a ciascuna di queste discipline e la logica ci dà la consapevolezza più astratta ma allo stesso tempo più fondamentale di tutte perché da lì poi possiamo scendere e dire ok lo capisco perché posso applicare queste regole del ragionamento informale lo capisco perché il critical thinking per mettere alla prova le mie abilità per esercitarle mi dice di procedere in un certo modo ok bene quindi la logica è un po' la regina di queste tre discipline ci dà una consapevolezza dei meccanismi delle dinamiche che rendono i ragionamenti validi dei messi strutturali fra gli annunciati dei messi logici fra gli annunciati benissimo tutto bello spero tutto chiaro però ovviamente uno fa questo bel discorso e poi deve affrontare una domanda importante cioè ok ma a che serve la logica in fondo pensare sappiamo pensare tutti in realtà questo non è proprio così ok non sappiamo noi siamo agenti conduttivi fallibili vuol dire che non siamo perfetti anche nel ragionamento facciamo degli errori ok la consapevolezza della logica di come funziona il ragionamento ci aiuta a non farli però ok uno potrebbe rilanciare e dire ok va bene ho capito pensare un meglio ma in fondo a cosa mi serve tutta questa cosa complicata e astratta non potrei imparare queste due regoline e metterle in pratica per ragionare bene nei contesti in cui realmente ci serve ragionare a che ci serve una teoria del ragionamento se grossomodo nei contesti della vita quotidiana ce la carriamo con i nostri pensieri insomma il sospetto di chi ti fa queste obiezioni è che in realtà la logica il ragionamento informale la teoria del ragionamento e il critico autentico non abbiano nessuna utilità per la vita e qui finisce la parte diciamo più astratta e più teorica di questa breve introduzione e comincia una cosa più carina anzitutto possiamo dire è più interattiva spero possiamo dire che chi pensa che la logica non abbia nessuna utilità per la vita si sbaglia perché l'abilità di ragionare usando i nostri strumenti logici in maniera consapevole quindi la logica ancora prima del ragionamento informale del critico autentico possono anche salvarcela la vita e se siete scettici su questo andremo a fare uno gioco di ragionamento che si chiama tesoro o leone e se non ragioniamo bene per noi c'è il leone leone affamato ok quindi diciamo che se non ragioniamo bene non ci salviamo la vita se ragioniamo bene invece diventiamo ricchi questo ovviamente è un gioco inventato da un logico solo un logico può pensare che non solo la logica che possa salvare la vita ma ci diventi anche ricco ok questo logico si chiama Charles Malian è questo qui che sembra un po' un crocio fra Gandalf e Albus e lui ha creato moltissimi giochi logici era uno che aveva capito l'essenza della logica al di là delle formulazioni matematiche eccetera e il gioco che stiamo per fare in realtà nella sua formulazione si chiama Lady or Tiger ok gentil donna o tigre ma la storia grossomodo è quella che andremo a vedere lui aveva letto da ragazzo un racconto di Frank Stockton che nei paesi lingua inglese è ancora oggi usato per valutare le competenze di lettura dei ragazzi fra gli ultimi anni delle elementari e i primi anni delle medie questo racconto si chiama The Lady or the Tiger Frank Stockton è questo qui con questi baffoni che gli sono andati completamente fuori controllo ed è un autore americano uno scrittore americano di fine ottocento questo racconto credo che sia del 1882 ok quali sono le regole del gioco le regole sono queste ciascuno di voi tu diciamo sei di fronte a due stanze accompagnato dal re del castello sa un po' di fantasy solo che invece di usare spade drive eccetera dovremmo usare la logica per sopravvivere ok venite portati di fronte a due stanze dal re del castello dovrete aprirne una quindi dovete sceglierne una le regole sono queste le regole cioè i punti fissi in base ai quali dobbiamo giocare ognuna delle stanze contiene un tesoro o un leone può accadere che ci siano leoni in entrambe le stanze ma non è detto può accadere invece che ci siano tesori in entrambe le stanze ma non è detto può accadere invece che ci sia un tesoro in una stanza e un leone nell'altra ok perfetto ora sulle due porte trovate dei cartelli con delle scritte nel cartello sulla porta della stanza a sinistra c'è scritto in questa stanza c'è un tesoro e nell'altra c'è un leone sul cartello sopra la porta della destra c'è scritta in una di queste stanze c'è un tesoro e in una di queste stanze c'è un leone il re vi dice sai che c'è uno dei due cartelli è vero e l'altro è falso bene noi non abbiamo nessun'altra informazione se non questa e le regole del gioco e in base a queste informazioni dobbiamo prendere la nostra decisione se ci sono due leoni ok siamo stati sfortunati ma non possiamo assumerlo il re ci ha detto che potrebbe che non è detto che ci siano due leoni non possiamo escluderlo lo dobbiamo capire noi dall'informazione che abbiamo ok noi dobbiamo considerare possibile il fatto che ci sia un leone da una parte un leone un tesoro dall'altro ma dobbiamo capire dall'informazione se questo è il caso e dove la donna e dove il tesoro scusate io penso sempre alla versione originaria e dove il tesoro e dove il leone perché se apriamo una porta con il leone dietro moriremo se invece apriamo la porta col tesoro dietro sopravviviamo e viviamo alla grande per il resto della nostra vita ok che stanza aprivi? voglio sentire voi qual è il ragionamento che vi ha portato lì? perché il ragionamento con tanto rispetto alla prima è il fatto che in questa stanza c'è un perore dell'altro di un leone nella confusione è un'altra cosa però vabbè però vabbè allora vi dico questo uno dei due cartelli è vero l'altro è falso allora noi dobbiamo ragionare per ipotesi poi magari arriviamo esattamente a quella conclusione ma ancora però c'è un intervento ok allora voglio sentire l'ultimo sentire come mi ha detto io ragionamento durante i passi l'ho stato fatto perché se niente uno mette come dei modelli fisici quindi ti obbliga a pensare che il fondo non deve essere sufficientemente giusto l'altro è una possibilità le conseguenze è più probabile a livello della situazione di probabilità che essendo che in uno dei due ci deve essere il tesoro o il leone il cartello di sinistra sia falso in quanto ti obbliga a scegliere forse quella ok ma questa è psicologia del ragionamento che ci può e fra l'altro il racconto di frank stopton quello che ho citato all'inizio non conteneva questa storia dei cartelli sulle porte era un racconto che parlava proprio di psicologia del ragionamento la cosa intrigante è che per quanto la psicologia del ragionamento ti possa fare sentire sicuro della tua scelta non può escludere che la tua scelta sia sbagliata mentre l'informazione che abbiamo qui ti dice una cosa di più stringente se ragioni realmente se non usi la psicologia del ragionamento ma la logica cioè ti dà un'indicazione infallibile su quale è la porta giusta dietro buongiorno buongiorno allora io ho ragione se ti ricordi che è stata di messa un spazzo vorrebbe dire che dice che in una stanza c'è un tesoro e nell'altra c'è un leone quindi quella di destra sarebbe vero che dice che può essere in una delle stanza c'è un tesoro e nell'altra c'è un leone ma non ti dice in quale c'è un tesoro in quale c'è un leone solo che con il fatto che quella di sinistra è fatta vuol dire che in quella stanza non c'è un tesoro mentre nell'altra sì più o meno no perché se allora ma è un'ottima osservazione perché mi consente di dirgli subito una cosa il cartello mettiamo che il cartello della stanza sinistra sia falso ok allora o lì non c'è un tesoro o lì o nell'altra non c'è un leone ok non posso inferirne perché che cosa mi dice che la falsità di quella congiunzione mi dice o qui non c'è un tesoro o lì non c'è un leone ma non mi dice quale delle due è vera ok allora noi abbiamo quattro ricordi tipo di abbiamo detto che o è una tesoro con un leone o c'è un leone o c'è un leone c'è un leone oppure c'è un leone c'è un leone c'è un leone quindi quindi alla fine è una teologica perché c'è un leone che è quello vero perché c'è un leone che noi ci siamo pesati e poi non c'è un leone perfetto lei ci è arrivata in un modo diciamo tangenziale ma corretto ok ora però vi dico un metodo in cui proprio metti giù le cose non so come dire anche voi lo avete fatto perché il ragionamento è sempre una procedura in cui tu butti giù delle cose però andiamo a vedere un modo pulito sì ma il mio rafferro che è giunista che dice che in una c'è un tesoro e in un'altra c'è un leone questo vuol dire che non è o o la negazione è un o o la negazione di una congiunzione è una disfunzione una congiunzione è vera quando entrambi i congiunti sono vere e quindi è falsa quando almeno uno dei congiunti è falso quindi quando almeno la negazione di uno dei congiunti è vera e che ci dice almeno la negazione di uno dei due congiunti è vera significa non il primo congiunto o non il secondo congiunto quando io ho una congiunzione come quella ok è falsa vuol dire che è vera la disfunzione che ha come i suoi elementi la negazione dei due congiunti iniziali ma è una disfunzione quando io dico una congiunzione falsa vuol dire che c'è una disfunzione vera è la disfunzione che ha come elementi le negazioni dei due congiunti iniziali ok ora vi dico una procedura che ci fa atterrare subito supponiamo che ed è la mossa di ogni ragionamento per assunzione o per ipotesi supponiamo che sia vero il cartello della stanza di sinistra il re ci ha detto uno è vero l'altro è falso quindi deve essere vero il cartello della stanza di destra ma cosa ci dice il cartello della stanza di destra in realtà la vostra collega una delle colleghe che avevano compagni che avevano risposto ha capito cosa implica il cartello nella stanza di destra se quel cartello è vero o ci sono due tesori ok scusatemi se il cartello nella stanza di destra è falso noi stiamo ragionando con vero stanza sinistra falso stanza destra se il cartello della destra è falso vuol dire che o ci sono due tesori nelle due ognuno per stanza o ci sono due leoni ognuno per stanza ma entrambe queste possibilità escludono che sia vero il primo perché il primo comunque ti dice per essere vero c'è bisogno che in uno ci sia un leone in uno un tesoro ok quindi la falsità della seconda del secondo cartello esclude la verità del primo non può quindi essere che il primo è vero e il secondo è falso mi fermo lì e dico dato quello che dice deve essere che il secondo come hanno detto molti di voi come avete detto tutti è vero e il primo è falso ok e che quindi è nel secondo fra l'altro questo implica cosa che nel secondo ci sia il tesoro ok perché se c'è un tesoro in una stanza c'è o un tesoro o un leone e nel primo non c'è un tesoro o non c'è un leone beh siccome però deve esserci una delle due posso concludere che il tesoro si trova nella seconda stanza ok quindi siete arrivati alla conclusione corretta ma attraverso metodi di ragionamento che per quanto ci facciano aterrare a volte sulla risposta corretta possiamo definire laterali cioè io mi servo di una serie di cose oppure magari c'era una percentuale maggiore di ragionamento sugli aspetti logici del problema come nel caso di una delle vostre colleghe ma non c'era lo svolgimento diciamo di una struttura di ragionamento che potrei applicare a ogni caso del genere per esempio ok o non era la più lineare possibile ok che cosa ho fatto ho fatto due assunzioni primo vero secondo falso sono arrivato a una contraddizione perché se il secondo è falso deve essere falso anche il primo ho buttato a mare l'assunzione da cui sono partito perché mi ha portato a una contraddizione ok ho concluso quindi che è il secondo cartello a essere vero è il primo essere falso il che però ci dice che siccome ce ne devono essere in una stanza o in una tesoro non possiamo avere il tesoro nella prima stanza quindi deve essere nella seconda ok perfetto ora noi vorremmo portarci a casa il tesoro a questo punto però come tutti i re questo re non è veramente sportivo e ci vuole mettere nuovamente alla prova e ci dà nuove regole in realtà le prime quattro sono quelle che abbiamo già visto no le seconde due ci interessano cosa ci dicono se c'è un tesoro nella stanza sinistra il cartello sulla porta della stanza dice il vero se c'è un leone il cartello sulla porta dice il falso se c'è invece la sesta dice se c'è un tesoro nella stanza di destra il suo cartello è falso se c'è un leone il suo cartello è vero ok mi fermo anzi andiamo subito di nuovo il re vi porta davanti alle due porte sulla su una su quella a sinistra c'è scritto entrambe le stanze contengono tesori e su quella a destra c'è scritto entrambe le stanze contengono tesori voi che portate ciò ok allora la tengo in stand by un secondo ne approfitto per complimentarmi con tutti quelli che hanno risposto perché hanno risposto nella maniera che comunque salvava loro la vita la differenza è per esempio il ragionamento cioè con quelle procedure che si basano sulla psicologia del ragionamento non abbiamo la garanzia che le nostre considerazioni ci salvino la vita il che è quello che succede nella maggior parte dei casi della vita reale bisogna essere sinceri ma quando abbiamo una situazione così definita in cui l'informazione a nostra disposizione ci vuol dire ok posso avere la certezza di arrivare alla conclusione di vista dobbiamo usare strumenti logici perché ce la possiamo avere quella garanzia posso ok se io ragiono sulla logica della natura dei peoni e magari vado oltre al fatto che devo ragionare sul cartello se mi concentro magari e ragiono sulla natura del leone è impossibile quella stanza del direziosa quindi di conseguenza il tesoro silenzioso e il leone no ma lo sa che c'è un episodio di una serie di cartoni che io vedo da un vero piccolo che si chiama Batman di Animated Series in cui c'è un problema simile a quello di Frank Stockton non a quelli che stiamo vedendo cioè da un lato dietro una porta c'è Catwoman dietro altra porta c'è un leone e Batman deve aprire la porta giusta per non essere sbranato Catwoman gli parla dall'altoparlante e lui in qualche modo da questo capisce dove si trova la porta anche se si supponeva che non dovesse emergere non dovesse essere rivelatore della provenienza ok però stiamo ragionando sulla natura del leone e noi supponiamo che sia insonorizzata la stanza questo rea degli strumenti potentissimi un castello super accessoriato magari ma chissà un castello uno se lo può costruire quando gli pare ok ok perché le dico questo perché noi stiamo cercando di astrarre proprio da quegli aspetti che non sono logici ok è ovvio che un castello dell'ottocento neanche tappezzandolo di cartoni di uova lo può sensualizzare non so se avete mai avuto un gruppo con insomma se suonate fate le prove di un gruppo con basso chitarra di solito per insonorizzare le pareti si usano i cartoni delle uova ho due osservazioni ho due persone che volevano intervenire stiamo procedendo per logica fra l'altro una cosa da cui eravamo partiti io non vi ho detto considerate partite solo dalle scritte dei cartelli partite da quelle e dalle regole del gioco e dall'informazione che vi da il re perché è cruciale che la prima volta vi diceva uno è vero l'altro è falso e abbiamo potuto fare leva su questo noi abbiamo dato quello per dire ok fammi ragionare su questo elemento perciò perciò allora qua dice io ritavo la risposta riguardando anche le regole che si può fare mica ah ok perfetto le ultime no sono andato troppo sono andato avanti spero che non abbiate letto la meravigliosa soluzione del baso teoricamente secondo quanto dice la se c'è un tesoro una stanza di piastra no se c'è un tesoro la stanza di sinistra è accattata da una parte della stanza di giuggero esatto e il re ci dice che in ogni stanza ci sono quindi no il re ci dice quella cosa lì è il re che ci dice quelle ultime due regole allora partiamo da lì scusi il cartello scusi il cartello esatto esatto quindi se c'è un tesoro là dietro è vero che in entrambe le stanze ci sono tesori giusto ma se c'è un tesoro nella stanza di destra è falso che entrambe le stanze contengono tesori cosa abbiamo visto che non ci può essere un tesoro nella stanza di sinistra chiaro ricordiamoci se c'è un tesoro nella stanza di sinistra il cartello dice il vero cosa dice il cartello in entrambe c'è un tesoro supponiamo che ci sia un tesoro nella stanza di sinistra cosa ne segue che in entrambe c'è un tesoro quindi anche nella stanza di destra ma se c'è un tesoro nella stanza di destra il cartello nella stanza di destra è falso ok e cosa dice il cartello nella stanza di destra che c'è un tesoro quindi non possiamo avere che c'è un tesoro nella stanza di sinistra questo lo possiamo escludere ma non è finita perché potremmo avere due leoni non lo possiamo escludere cosa facciamo allora? andiamo a vedere un po' grazie tutti questi ultimi due regole vanno in controposizione con la prima regola ok ma ricordiamoci che in teoria potrebbero essere entrambe false se c'è un tesoro nella stanza di destra allora ci deve essere un leone nella stanza di sinistra perché se c'è un tesoro nella stanza di destra cosa dice il suo cartello? che è falso che ci siano tesori in entrambe le stanze ma lì c'è un tesoro quindi nell'altra stanza ci deve essere un leone ok quindi non ti portano di per sé non ti portano a delle contraddizioni ma noi possiamo usare le assunzioni qui c'è un tesoro qui c'è una tigre per le rispettive stanze per capire quali di queste assunzioni ci portano in contraddizione e abbiamo già visto che donna nella stanza di sinistra donna scusatemi perché io penso sempre alla versione di Frank Stockton e Sareg 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 sto dicendo sempre le parole tesoro porta tigre cartello cioè ripetendo la scelta tutti quanta una certa uno fa in palla ok ma la logica ti aiuta proprio a non andare in palla quando sei di fronte a una situazione di un genere ok certo anche io sono andato in palla la prima volta quando avevo grossonato la vostra età e ho fatto questi indovinelli e dice ma è scocciato tutti questi tesori questi tigri poi non si chiede una lira scusa ok ma è così quanti casi ci sono possibili tesoro nel primo nella prima stanza o leone nella prima stanza tesoro nella seconda o leone allora tu li prendi tutti e quattro parti da lì li usi come assunzioni e vedi quale ti porta in contraddizione tesoro nella prima stanza non è possibile perché ti dà una contraddizione ok vediamolo magari direttamente così cerchiamo di comprimere e di avere qualcosa ok supponiamo che c'è un tesoro nella stanza a sinistra quindi entrambe le stanze contengono tesori ma allora ciò che dice il cartello a destra è falso e quindi almeno una delle stanze non contiene un tesoro contraddizione non è possibile quindi che la stanza a sinistra contenga un tesoro ma non è possibile che la stanza a destra contenga un leone perché altrimenti il suo cartello sarebbe vero e allora la stanza non dovrebbe contenere un leone avremmo quindi di nuovo una contraddizione quindi l'unica combinazione possibile è quella in cui la stanza a sinistra contiene un leone e quella a destra un tesoro in realtà non abbiamo considerato tutte e quattro le possibilità ok ma ci è bastato considerare quelle ok ci siamo? qual è la cosa che tu devi fare da un punto di vista fra virgolette scientifico rigoroso quali sono le possibilità sono quattro le considero tutte e quattro ok magari poi il fatto che una porti a una contraddizione te ne elimina anche un'altra ok dipende dalla struttura del problema quelli in mezzo tutti dicevano può accadere e può accadere però poi le vanno in contraddizione con l'unica termine quindi sicuramente non sarebbe c'era quella di altre regole che non andavano senza considerazione no perché noi non sappiamo ancora una volta può accadere che ci siano cos'è che diceva noi avevamo tutte e qua tutte le possibilità che ci siano all'inizio leoni in entrambe le stanze che ci siano tesori in entrambe le stanze che in una ci sia un tesoro in una un leone ok i cartelli di per sé non sono compatibili con tutte queste tre possibilità ok sono compatibili solo con una però il re ti dice guarda che non è detto che questi cartelli dicano il vero e se non dicono il vero non fanno più gioco a contraddire quelle possibilità ok ci siamo non fanno più gioco a contraddire la possibilità che da un lato ci sia un leone dall'altro un tesoro come avviene poi qui però uno dei due cartelli sicuramente è vero perché alla fine no non è vero nessuno dei due cartelli è vero sono entrambi falsi perché i cartelli in questa seconda versione dicono esattamente la stessa cosa se è falso l'uno è falso anche l'altro entrambi contengono tesori mi pare che dice se no entrambi contengono tesori dicono esattamente la stessa cosa solo che le condizioni di verità del primo cartello e quella del secondo cartello sono invertite se c'è il tesoro in un lato nel primo dietro al primo allora quel cartello è falso è vero se c'è un tesoro dietro al secondo quel cartello è falso e viceversa con i leoni ok ok quindi così sopravviviamo ok ovviamente ovviamente nella maggior parte dei nostri contesti quotidiani non è che ci troviamo di fronte leoni tesori magari se no uno parte così a terra sul tesoro ma tanto poi il premio glielo consegna mica il tesoro ci sono dodici prove nel gioco di Smytheon noi ne vediamo due ma ce ne sono dodici ognuna diversa ok a certo punto il prigioniero ha detto no basta aprite la porta non ne ne posso più ok però avete visto quello che vi volevo dire è un gioco ovviamente però che cosa succederebbe se noi fossimo in uno di quei film tipo Q e fossimo nelle mani di un pazzo psicopatico al posto del re del simpatico re e questo pazzo psicopatico ci fa un indovinello del genere da un lato c'è la libertà dall'altro c'è un indurone qualcosa qualche cosa di orrendo stile so eccetera che se l'informazione è di quel tipo lì se possiamo ragionare in maniera logica per arrivare a una risposta sapere ragionare ci salva ok e per quanto contorto vi sia sembrato in entrambi i giochi abbiamo applicato la regola una delle regole logiche più elementari di tutte fai delle assunzioni arrivi a una contraddizione butta le tue assunzioni butta la loro congiunzione ok se sono più di una ok non possono essere tutte vere perché tutte vere insieme ci portano a una contraddizione quindi butta le assunzioni passa alla loro negazione o alla negazione di una di loro ok c'è anche questo in realtà questo puzzle originariamente si chiamava Matti Cilven i bambini con la fronte infangata però ho pensato che magari quei vampiri era più divertente dava un tocco insomma ve lo assicuro è noiosissima la versione di quei bambini con la fronte infangata mettiamo non so se avete visto credo che sia finita c'era una serie su HBO credo The Passage basata su un romanzo di Justin Cronin lo scrittore di fantascienza e fantasy americano in cui a un certo punto per un virus misterioso la maggior parte degli esseri umani si trasformava in vampiri ok una cosa che c'era già in un romanzo degli anni 50 che si intitola I am legend io sono leggenda di Richard Mephison che poi è diventato un film con Will Smith in realtà è diventato un film è diventato tre film tutti però quello con Will Smith è l'unico che si intitola I am legend io sono leggenda e ok prendiamo questo scenario stile The Passage I am legend e abbiamo che un virus ha trasformato la maggior parte delle persone in vampiri e tu fai parte di un gruppo di sopravvissuti che bello è uno scenario estremamente rilassante sopravvissuti i vampiri il tuo caposquadra ti porta insieme ad altri quattro del gruppo in un casolare in cui dovete eliminare dei vampiri e voi sapete già che ci saranno problemi è pieno giorno quando entrate ma a causa di un'esplosione nel casolare svenite tutti perché la fortuna non rimane abbastanza quando vi risvegliate è notte il vostro caposquadra che in un'esplosione non si fa niente vi dice almeno uno di voi è stato morso che bello chissà di essere stato morso si faccia avanti ripeterò questa frase finché tutti coloro che sono stati morsi si saranno fatti avanti potete solo vedere il collo degli altri con la luce delle vostre torce ma non il vostro quindi voi non potete prendervi conto con l'osservazione se siete stati mossi o meno supponete che ci sia un totale di due persone mosse ok dopo quante ripetizioni dell'annuncio del caposquadra si saranno fatte avanti tutte queste persone per farsi allegramente riappare con il cuore e tu come e quando capirai se sei stato morso o meno ho visto un gesto rassegnato di una persona che sembrava dire se c'è uno scenario post-apocalittico del genere per favore che non mi capiti una roba così perché ma se io non posso vedere tutto altro intanto perché come faccio a farmi avanti direi di ormai non puoi dipende no no non potete comunicare fra voi allora è molto più semplice di quanto non sembri partiamo dal caso base ce n'è uno che è morso lui si farà avanti subito perché ce n'è uno solo che è morso lui guarda il collo di tutti gli altri e cosa trova niente ma cosa dice il vostro caposquadra e lui diciamo dice la verità non avete dubbi almeno uno di voi è stato morso quindi tu che fai vedi gli altri nessuno è stato morso quindi sono io se nessuno di quelli che io posso vedere io posso vedere tutti tranne me se nessuno degli altri è stato morso sono io e quindi al primo round io mi faccio avanti si fa avanti chiunque sia stato morso se è l'unico essere stato morso ovviamente ma io qua vi sto chiedendo di ragionare sul caso in cui due persone sono state morse quindi il primo round sicuro c'è uno va no questo dipende dal numero delle persone morse dal primo round al primo round io vado solo se vedo che tutti gli altri non sono stati morso ma che succede se c'è un altro che è stato morso io diciamo cosa succede stavolta ragioniamo sul fatto che ci sono due persone che sono state morse un tizio uno di noi guarda gli altri e ne vede uno che è stato morso dall'esterno siccome noi abbiamo posto due persone sono state morse noi sappiamo che è lui ma lui non è stato detto due persone sono state morse è stato detto almeno una persona è stata morse ne vede una morse e dice io ne vedo una morse io non posso sapere se sono stato morse o meno no? quello che è stato morso guarda tutti gli altri e vede anche me e vede che io sono stato morso ma lui non può sapere se è stato morso o meno ricordatevi due persone sono state morse è una cosa per noi che facciamo il gioco non è una cosa per fattigli uniroma 3 uniroma 3 lo sopisce a scuola che fa annottata non ho capito se era riferito al gioco dei bambini oppure era un microfono vedete l'università è una cosa molto divertente che mi dice che è noiosa io mi diverto un sacco questo serve a noi ce ne sono due no 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 se lui mi dice che lui è una persona è stata morta e noi lo tropevamo perché eravamo tutti eravamo tutti eravamo tutti noi siamo stati morti siamo ancora vivi no 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 siamo lì che c'è qualcuno di noi è stato morto ma ci siamo anche ripresi e ora c'è la strizza e dire ma sono stato morso ma se lui ci dice che siamo stati morti ma almeno uno è stato morto lui come fa torce ci ha visto ci ha guardato però oltre a essere il nostro caposquadra che dice solo la verità non è una persona particolarmente simpatica e invece di dirci sei stato morso tu e tu ci fa pure penare bravissimo però mi ha letto nel pensiero esatto però non dobbiamo prenderci la responsabilità di dire questo io vedo che qualcuno è stato morto che qualcuno non si vede la verità io lo posso dire non posso comunicare con gli altri ma scusatemi io vedo io vedo che lui ha il morso ok ma io non vedo me ok e mi chiedo ho il morso o no però vedo anche che lui non si fa avanti lui non si fa avanti il caposquadra ripete di nuovo almeno uno di voi è stato morso chi lo sa si faccia avanti anche solo? no dopo il secondo giro vi faccio avanti io che sono stato morso e si farà anche anche l'altro ma loro non sanno che sono due persone morte e no quello lo sappiamo noi per dire ragazzi è qua che ci dobbiamo fermare al secondo annuncio in pratica per avere un'idea dice vabbè fammi ragionare su un numero concreto perché se no diventa astratto io potrei dire ci sono n persone morse poi il procedimento è sempre lo stesso però se parti con due almeno dici ok cerco di immaginarmi gli scenari cos'è successo? prima call primo annuncio quello morso non vede se stesso vede me che sono morso ma non si muove perché non sa se tu è stato morso o meno idem io però quando il caposquadra fa il secondo annuncio a quel punto io ho visto che quello che è morso non si è mosso che nessun altro è stato morso quindi dice perché non si è mosso perché ha visto me e non ha più e non ha potuto sapere se è morso o meno perché? perché io sono stato morso sono l'unico a parte cioè c'è lui fra quelli che vedo io ma allora perché lui non si è mosso? perché non ha visto che io non sono morso ha visto il contrario e non può più sapere non può sapere se lo è morso o meno è stato morso o meno e specularmente per lui cioè lui fa lo stesso ragionamento ma al secondo annuncio entrambi hanno capito questa cosa e si fanno entrambi avanti quindi arrivo subito concludo questo quando abbiamo n persone morse si faranno avanti tutti insieme ovviamente stiamo supponendo che questi qua che hanno già una serie di disgrazie incredibili il scenario post-apocalittico vampiri gli esploso il casolare addosso e tutte queste cose ma rimangono dei ragionatori perfetti degli agenti logici perfetti anche io mi alzo la mattina con una specie di zombie apocalypse e sono freschissimo e mi metto a ragionare però sono noi stiamo supponendo che siano agenti logici perfetti e cosa fanno quando hai n persone morse queste persone verranno tutte avanti al turno numero n di annunci idealmente ok ci vogliono n turni n pause n silenzi non è possibile la idea è questa n ripetizioni dello stesso annuncio perché sbuchino fuori allo stesso tempo tutte le persone che sono state morse ed è esattamente a quel punto che ciascuno di noi lì dentro sa se è stato morso o se non è stato morso perché tutti gli altri dicono che non sono io perché sono avanzate gli altri hanno visto me non mi hanno preso in considerazione perché io non sono in quel pacchetto lì io non sono stato morso chi non si fa avanti non si fa avanti perché ha capito non essere stato morso ma se non si possono parlare come faccio saperlo io osservazione io osservo te che sei stato morso ok non diciamo così è ipotetico almeno una persona è stata morso ma io attenzione lei cosa vediamo io e lei io vedo tutti gli altri cioè lei e gli altri vedo che lei è stato morso ok lei cosa vede vede me e tutti gli altri e vede che è stato morso mentre gli altri tutti gli altri io e lei li vediamo senza morso ok ci siamo quindi lei mi vede e dice a me lui è l'unico che vedo col morso ma questo non mi consente di capire se io sono stato morso o meno però che succede che se io non fossi stato morso anche lui vedrebbe tutti gli altri che non sono stati morsi e si fa avanti quindi aspetto c'è la seconda ripetizione a quel punto io sono pronto a venire avanti dicendo è toccata a me perché se lui non si è fatto avanti alla prima vuol dire che sono stato morso è speculare cioè ed è per questo che finiscono idealmente in contemporanea e gira bene gira gli scattosano ma sei stato morso ecco ma anche io io in mezz'ora che dico che sono stato morso però sto benissimo ma se il capo squadra all'inizio ci sono visti con gli adulti ma perché ce la rilasciano a noi la resta di un'unica ma perché abbiamo commentato su quella brutta caratteristica del capo squadra è vero è vero è vero ok 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 ma di children si fa con dei bambini che hanno la fronte sporca tornano credo che sia nato in Olanda dove tutti i bambini giocano praticamente ovunque anche nel fango e ci ho vissuto lo so è così e lo scenario è quello di bambini che tornano dal playground all'avere giocato sono sporche hanno la fronte sporca ma ognuno può vedere solo la fronte degli altri e il padre sulla soglia di casa gli dice dovete stare a fermi qui non potete entrare in casa perché siete avete la fronte sporca chissà almeno uno di voi almeno uno di voi la fronte sporca chi sa di avere la fronte sporca venga avanti ripeterò questo annuncio perché non saranno venuti tutti avanti la dinamica è la stessa n persone morse n persone con la fronte sporca n turni di ripetizione e vengono tutte avanti insieme e tutti gli altri quelli che non si fanno avanti sono tutti e solo quelli che non sono morsi non sono stati morsi non hanno la fronte sporca eccetera ok ok questa è un'altra cosa molto carina ma voglio andare al punto cosa succede se non capiamo di essere stati morsi perché non sappiamo se scappare da quelli che sono stati morsi o meno ancora qui il capo squadra è veramente pessimo cioè ci espone anche a un rischio sì sì concordo ok cosa succedeva con tesoro leone facevamo la scelta sbagliata o non eravamo in grado di escludere di fare la scelta sbagliata ci esponevamo al rischio di aprire una porta dietro la quale c'era un leone e proverbialmente i leoni non hanno un buon carattere e ci consigliano come un delizioso facile spuntino ok perché siamo partiti da questo per due cose primo la logica è un gioco alla fine può essere arduo finché non cambiamo il meccanismo che dobbiamo seguire poi va così ok così e poi perché questi ragionamenti ci aiutano a cogliere una cosa noi abbiamo usato fatto ricorso l'idea di arrivare a una contraddizione nella storia di tesoro leone che è contraddizione in termini in realtà tecnico della logica e la logica che ci dice cosa dobbiamo fare a livello di ragionamento quando incattiamo una contraddizione non le nostre intenzioni ok quindi ci serve abbiamo visto che un problema potenzialmente di importanza vitale per noi lo potevamo risolvere sapendo usare la logica idem vampiri ma di cilbre cosa succede è un puzzle è un gioco su come la nostra ignoranza su una certa cosa ci aiuta a generare informazione nel momento in cui io non mi faccio avanti è come se dicessi io non lo so se sono stato morso o meno e paradossalmente questa dichiarazione di ignoranza genera informazione per le altre persone ok quindi questo per rifarmi a una delle cose su cui lavoro per uno dei corsi cioè la logica dell'informazione come la logica ci aiuta a capire come possiamo usare informazione per generare in maniera logica nuova informazione ok più in generale abbiamo visto che ragionare con una reale consapevolezza dei messi logici fra gli enunciati che impieghiamo nei nostri ragionamenti ci può essere utile e che possiamo risolvere problemi che richiedono questa consapevolezza soltanto se comprendiamo le dinamiche dietro ai nostri ragionamenti e se comprendiamo queste dinamiche saremo in grado di individuare quei ragionamenti in cui tali messi logici in realtà marcano questo è importante al di fuori dei giochi che abbiamo fatto vi cito una cosa di attualità molti intellettuali italiani di varie ordine docenti e non solo che sono stati invitati nelle trasmissioni televisive nell'ultimo mese si sono parlo ovviamente della guerra tra Russia e l'Ucraina si sono divisi due grossi blocchi ok c'è chi condanna l'atto della Russia senza diciamo senza ma senza se e senza ma c'è chi ha detto che non so se avete sentito parlare mi pare si chiama Alessandro Alessandro Orsini insegna sociologia all'università alla LUIS qui a Roma e lui ha detto o gli sono state attribuite frasi argomenti del tipo siccome la Nato e l'Europa hanno con azioni politiche hanno creato tensione nella situazione russa e l'Ucraina l'Europa e la Nato sono corresponsabili di quello che sta accadendo cioè lui fa un'analisi geopolitica di quello che è successo fra Nato e Russia negli ultimi vent'anni in realtà e poi dice questo rende l'Europa corresponsabile l'Europa la Nato corresponsabile di quello che sta accadendo il punto è che se individuiamo le favole di ragionamento riusciamo a dire ok la tua analisi geopolitica può essere anche corretta ma questo non implica la corresponsabilità tu mi devi dimostrare che c'è un messo logico fra l'analisi geopolitica che hai fatto e il concetto di corresponsabilità in modo tale che la tua conclusione possa seguire dalla premessa ok cioè ci consente di affrontare il dibattito quello che stiamo sentendo senza dire like oppure no mi piace non c'è dislike Facebook ma ci siamo capiti cioè senza pollice alto o pollice verso ma di farlo con la consapevolezza di dove stanno le falle del ragionamento così saremo attori critici di questo attori o almeno spettatori critici di questo dibattito non compreremo solo il nostro ascolto del dibattito non produrrà semplicemente sì nessuna responsabilità per l'Europa no corresponsabilità per l'Europa ok sapremo ragionare su questi due punti se non lo facciamo il nostro dare consenso a un'opinione diventa una cosa estremamente preventiva che mette potenzialmente in pericolo la comunità in cui viviamo è come votare per qualcuno senza capire che cosa ci sta realmente proponendo ok e i limiti della sua proposta perfetto io spero che questa oretta di giochi logici di ragionamento critico vi sia piaciuta se non vi è piaciuta comunque la scienza della comunicazione è un bellissimo ambiente non è che uno deve fare le forze di un po' se è piaciuta invece beh ne sono contento e tra l'altro se volete le slide di questa lezione potete scrivere a roberto.cuni a uniroma 3 3 a numero punto it cuni c i u n di napoli i at uniroma 3 3 a numero punto it ok così magari vedete anche quella cosa molto divertente della barbiera dell'isola per la quale non ho messo la soluzione quindi ho messo la soluzione ma non ho messo cosa che significa quindi potete scervettare buona giornata grazie 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 restate partecipativi perché è una cosa molto positiva grazie a voi buona giornata grazie 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 se vuole mi ascrivo perché mi ascrivo mi ascrivo e qualche è stata di quanto rappresentato degli studenti che ricevo un sacco di e me insomma buona e c'è contro buono buono per ricevere un sacco di me vabbè che lo schermo è buone buone cinema da una parte e teatro musica e danza dall'altra esatto e posso aggiungere quello che si diceva stamattina che in realtà quindi sono dei percorsi ovvero è un'unica laurea ma diversi percorsi uno specifico di teatro musica e danza uno specifico di cinema e nuovi media dal prossimo anno ce ne sarà un terzo che ancora non abbiamo pubblicizzato però più o meno qualcosa è stato detto e abbiamo anche detto che probabilmente le elezioni si terranno tra Roma e la sede di Latina vi diamo una risposta a due livelli prego allora per quanto riguarda il triennio che penso sia quello che ti interessa maggiormente assolutamente sì ci sono i laboratori di filmmaking ad esempio di sceneggiatura di display fotografico che addirittura sono obbligatori ad obbligo di frequenza quindi a differenza di altre lezioni altri esami che invece la frequenza è consigliata ma non è obbligatoria i laboratori invece hanno l'obbligo di frequenza proprio per diciamo introdurre lo studente non solo appunto come dicevamo allo studio teorico ma anche e soprattutto a quello pratico i laboratori all'adriennale sì per quanto riguarda il cinema sono sono vari filmmaking sceneggiatura operatore radiofonico format televisivo ce ne sono veramente tantissimi come diceva ci sono quelli obbligatori ma si possono anche inserire negli insegnamenti a scelta quindi se diciamo l'obiettivo è quello di concentrarsi più sul pratico si possono anziché scegliere magari degli esami teorici inserire proprio dei laboratori alla magistrale invece per quanto riguarda il percorso cinema c'è solamente un laboratorio che è quello di critica cinematografica sì esatto l'idea è un po' questa che i saperi triennali in genere devono servire a farvi un'idea a farvi un'idea su tante cose naturalmente e quindi i tipi di laboratorio che noi possiamo offrirvi naturalmente sono adatti a un corso di laurea di tipo triennale filmmaking montaggio questo l'abbiamo detto la sceneggiatura va bene sono degli inizi come dire sono dei laboratori che vi consentono di capire innanzitutto se vi interessa se siete in grado se avete un talento magari scoprite di averne non lo sapevate scoprite di averne per poi andare a specializzarvi in seguito alla laurea triennale la stessa cosa vale per i tipi di studio per il tipo di studio che si fa a livello triennale immaginiamo sempre uno studio di base complesso però di base che serve a darvi le basi per diventare dei professionisti della cultura cinematografica mediale audiovisiva per quanto riguarda il cinema ma anche teatrale musicale e dello spettacolo dal vivo per quanto riguarda il percorso di teatro tutto questo poi viene approfondito nei corsi laurea magistrali seconda poi di quello che vi interessa andrete a scegliere il vostro percorso appunto proprio perché in realtà a livello magistrale noi non potremmo offrirvi come dire qualcosa di simile a un corso di regia preferiamo offrire un laboratorio di filmmaking al triennio ed eventualmente un corso di regia o di montaggio può accompagnare il vostro studio magistrale il vostro studio magistrale invece vi porta in maniera più specifica ad essere docenti insegnanti ma non solo critici cinematografici operatori culturali a vario livello ed è evidente che per quello soltanto un laboratorio di critica cinematografica noi possiamo offrire agli studenti di magistrale sto parlando di cinema naturalmente che è poi quello di cui mi occupo io per chi poi si affaccia sul mondo del lavoro noi per le nostre magistrali possiamo offrire laboratori di critica cinematografica per il momento e poi quei corsi che vi serviranno per l'insegnamento ok mentre per il triennio e adesso poi chiedo a lei ed è l'ultima perché poi devo iniziare la mia lezione per il triennio stiamo addirittura implementando cioè quelli che vi ha detto la studentessa Martina rimangono sicuramente validi ma dal prossimo anno all'interno di questo terzo percorso tecnologico su le immagini e sui suoni avremo ulteriori laboratori di produzione multimediale di marketing digitale di post produzione di sound design e questi fondamentalmente più un nuovo corso di sceneggiatura che però non è un laboratorio ma è un corso vero e proprio perché sapete che nell'università c'è una differenza tra i corsi per i quali si studia e poi si dà l'esame e si prende il voto in trentesimi e i laboratori che invece sono delle attività che noi chiamiamo pratiche ma che fondamentalmente diciamo si basano sulla vostra presenza in aula e alla fine non hanno un esame bensì una idoneità si dice siete idoni o non idoni quelli ovviamente vanno frequentati obbligatoriamente perché tutto sta nella vostra presenza in aula quindi stiamo cercando sia di ampliare il nostro parco di laboratori per quanto riguarda il triennio e sia di rendere più specifico ancora i nostri studi magistrali di livello magistrale un'ultima domanda vuole dire qualcosa prima poi rispondo io operiamo a due livelli riguardo gli sbocchi lavorativi diciamo che sono molteplici poi comunque dipende dipende sempre dall'ambito in cui si vuole operare diciamo che la triennale dà gli strumenti diciamo critici teorici e metodologici per introdursi sì in ambito in ambito critico per quanto riguarda la gestione e l'organizzazione di eventi quindi cinematografici ma anche teatrali musicali e sì comunque è possibile frequentare poi altri corsi di laurea magistrale credo che poi ogni corso di laurea sia specifico abbia comunque la necessità magari di implementare qualche esame per diciamo sopperire quegli ambiti magari che non sono stati affrontati in triennale però comunque c'è libertà di iscrizione anche ad altri ad altri corsi di laurea certamente sia diciamo dell'ambito filosofia comunicazione spettacolo ma comunque anche altri altri ambiti disciplinari e aggiungo aggiungo una cosa cioè primo quelle di queste insomma di cui si è parlato stamattina e di cui continuiamo a parlare adesso non sono discipline professionalizzanti cioè non sono i corsi professionalizzanti per cui tu hai la laurea e quindi vieni assunto noi abbiamo bisogno e voi avete bisogno di essere propositivi appassionati di avere idee eccetera eccetera in molti casi cioè c'è una serie di tipologie di insegnamento e di scusate di professione che poi vi create voi va bene che cosa fanno i nostri corsi triennali vi aprono delle porte vi danno l'occasione di stabilire come diceva stamattina il professore Versano di stabilire delle relazioni con grandi enti che collaborano con Roma 3 da questo punto di vista c'è una serie di attività di tirocini che voi potete fare che vi consentono di cominciare a entrare in contatto con grandi teatri o istituzioni musicali come il teatro dell'opera o grandi enti relativi alla cinematografia per esempio la Cineteca Nazionale e il Centro Sperimentale sono inizi di collaborazione sono inizi di dialogo che poi potranno essere messi a frutto se sarete sufficientemente appassionati e propositivi per altri versi noi vi possiamo offrire invece a livello magistrale quindi con lo sbocco diretto nel mondo del lavoro l'insegnamento la critica soprattutto e in generale tutti i lavori che possono rientrare all'interno dell'etichetta di operatore culturale cioè tutti quei lavori che non si fanno se non si ha un po' di cultura cinematografica e dello spettacolo ok? visto che ormai non esistono professionisti che non siano anche professionisti dei cosiddetti contenuti va bene la possibilità di fare la magistrale fuori sì è possibile io personalmente ma qui dico la mia non lo consiglio nel senso che io vedo che molti studenti hanno spesso la tendenza a cambiare più per il gusto di cambiare e di vedere che aria tira da un'altra parte per così dire che altro in alcuni casi no in alcuni casi semplicemente sono interessati alla magistrale ai corsi che si tengono in altre magistrali ma qualche volta accade questo cioè ho fatto tre anni a Roma 3 adesso la magistrale la vado a fare da qualche altra parte perché così si ha l'impressione di avere più opportunità credo che questo sia adesso non voglio dire uno dei mali di questi tempi però diciamo che sia a discapito di tutte quelle forme invece di relazione che si consolidano nel tempo e che i nostri studenti di triennio possono continuare a maturare nel corso degli studi magistrali certo l'impressione di non cambiare l'impressione di vedere sempre le stesse facce eccetera eccetera però ecco quello che posso dirvi naturalmente poi sarete sempre liberi di passare da una triennale a Roma 3 a una magistrale altrove però quello che vi sottolineo è anche appunto l'importanza il valore delle cose che si consolidano nel tempo è molto importante essere radicati all'interno di un ambiente essere un po' conosciuti va bene avete la fortuna chi si iscrive a Roma 3 ha la fortuna di avere un rapporto con i docenti un po' diverso rispetto a quello che succede in altre università perché perché comunque il numero degli studenti è un po' minore il rapporto con i docenti è un po' più amichevole e qualche volta diciamo personale ci si riconosce eccetera questo è un valore che non va perso voi vi spostate e ricominciate a dovervi far conoscere per così dire ci ho detto gli sbocchi professionali sono tutti descritti nei nostri siti web ammetto difficili da consultare ma una volta che ci avete preso confidenza sicuramente riuscite a trovare anche gli sbocchi professionali quelli previsti insomma dai corsi di laurea triennali e magistrali va bene basta perché io guardate già vorrei dire sicuramente ho meno tempo a disposizione di quello che vorrei ma mi piacerebbe dire qualcosa grazie Martina può restare qui mi piacerebbe un po' dire qualcosa sullo studio del cinema perché è quello di cui mi occupo presento il caso di Stanley Kubrick perché recentemente mi è capitato di curare un libro per l'editore Marsilio su questo cineasta su cui si continua a pubblicare perché ci sono tantissime cose interessanti da dire ma mi interessa il caso di Kubrick perché è esemplificativo un pochino di come si studia cinema al Dams di Roma 3 e parlo soprattutto del triennio ma non significa che poi questo non valga per i nostri corsi di laurea magistrali perché la mia idea sarebbe quella di sottolineare diciamo di fronte a un testo complesso come può essere un film di Stanley Kubrick quali sono le domande possibili quanti sono i punti di vista possibili e insomma in buona sostanza per quale ragione è meglio studiare cinema se interessa questo in un corso molto specializzato con un'ampia offerta formativa che vi consente di affrontare la questione da tanti punti di vista piuttosto che farlo all'interno di corsi non specializzati nei quali c'è magari soltanto un corso di cinema un corso di storia del cinema oppure un unico corso in cui si fa tutto storia linguaggio eccetera eccetera noi abbiamo un'offerta invece molto diversificata di storia di estetica di analisi del testo di cultura visuale eccetera eccetera oltre che i nostri laboratori pratici che alla fine vi danno un tipo di sapere che è complesso perché insomma in buona sostanza come si studia un film beh per avere contezza di tutto quello che si può dire di un film bisogna sapere tante cose bisogna chiedersi per esempio come il film è fatto innanzitutto bisogna quindi conoscere le tecnologie e la storia delle tecnologie oggi un pochino vedremo qualcosa di 2001 di se nello spazio va bene bisogna sapere per comprendere il film bisogna sapere come è stato fatto bisogna sapere di che epoca ci parla quindi quando è stato fatto dunque la storia bisogna conoscere il genere di riferimento in questo caso la fantascienza ma non solo bisogna sapere come racconta come è fatta qual è la sua struttura narrativa e come sono costruiti i suoi personaggi la sua messa in scena ovviamente ed ecco allora l'importanza della conoscenza dello storytelling delle forme del racconto e dello studio della messa in scena non più soltanto dal punto di vista tecnologico ma proprio la comprensione di come la messa in scena produce senso produce significato anche a fronte di un film complesso perché voi già a livello triennale comunque dovete diventare dei professionisti che sono in grado di parlare per così dire di tanti tipi di film va bene sia quelli che hanno significati che si colgono magari in maniera più immediata sia di film quelli più complessi quelli che normalmente c'è bisogno di un po' di riflessione per capire scusate io ogni tanto continuo ad accettare salve a tutti i nuovi arrivati tramite Teams va bene quindi questa è un pochino l'idea di questa breve lezione io ho non soltanto l'orologio sotto mano ma ho anche una sveglia quindi a mezzogiorno e mezza vi garantisco che finirò e quello che mi piacerebbe appunto raccontare è un pochino la molteplicità dei punti di vista delle domande possibili a partire da 2001 di Sè nello spazio che dicevo un film complesso che è un film guardate questa è una locandina dell'epoca che cercava di rendere come dire di rendere appetibile un film che io do per scontato che sia un film ancora abbastanza noto cioè immagino che molti di voi abbiano presente in questo film se non ce l'avete presente vi posso dire soltanto che si tratta di un caposaldo della storia della fantascienza che è un film che ha creato un immaginario che continua ad essere citato ed elaborato in film serie televisive videogame ovunque perché Kubrick è un grande inventore di immaginari cioè di figure che poi come si dice oggi iconiche che continuano a circolare nell'universo audiovisivo anche al di fuori della visione del film ma si tratta anche di un film non semplice un film per esempio che quasi obbligatoriamente va visto su grande schermo comunque non sicuramente su un piccolissimo schermo perché è una grande esperienza audiovisiva che dà il suo meglio in una sala e comunque in condizioni di visione di ascolto ideali non troppo ridotte è un film che dura due ore e venti di queste due ore e venti una quarantina di minuti sono parlati preferite vedere la slide adesso vi metto anche la slide guardate così eh lo so però questa purtroppo non è una cosa che gestisco io io gestisco io posso fare così dopo di che bisogna chiedere eh a chi ci assiste quindi un film capite che in cui si parla per 40 minuti e per due ore e venti per il per le restanti quasi due ore si vedono immagini si ascoltano musiche si sentono suoni si ascolta anche il suono del silenzio e si vede eh il nero dello spazio cosmico per così dire quindi una vera esperienza audiovisiva eh quindi non semplice è un film che molti studenti possono o comunque più giovani che magari non si aspettano un film del genere ma ne conoscono alcune immagini e situazioni eh di fronte al quale possono rimanere sconcertati molti eh giovani di oggi così come dell'epoca tanto che per l'appunto come vedete in questa locandina lo studio delle locandine può essere molto istruttivo da questo punto di vista per questo parto con una locandina ma può essere istruttivo per capire come è fatto il film eh come era venduto ma era venduto era diciamo la promozione puntava sul fatto che si trattava primo di un dramma epico eh ma perché chi conosce la storia del cinema sa che per rendere appetibili i generi cinematografici nel corso degli anni sessanta si ricorreva all'epica cioè a grandi narrazioni corali che non riguardano più soltanto l'evoluzione di un singolo personaggio magari in una fase limitata della sua vita ma appunto grandi saghe oppure storie di famiglie oppure appunto storie epiche come eh di tipo biblico e quindi raccontavano storie di popoli eh Stanley Kubrick si inserisce in a modo suo naturalmente in questo filone raccontando la storia dell'umanità ma nessuno si aspettava all'epoca noi oggi si noi oggi siamo abituati a vedere film di fantascienza che si occupano di questioni filosofiche che riguardano l'umanità all'epoca non era così all'epoca non era così e quindi eh era molto importante invitare gli spettatori a un tipo di esperienza da fare in sala che era per l'appunto primo epica quindi grandiosa dal punto di vista del racconto secondo di avventura ci sarebbe stata eh ci sarebbe stata dell'azione esplorazione eh effettivamente c'è nel film ma più che altro conterebbe la seconda parola chiave esplorazione e qui è abbastanza interessante il fatto che il film sia stato girato in cinerama cosa che questa locandina eh vi dice era interessante dovete immaginare che così come oggi un film non lo so realizzato eh in 3D o con una tecnologia speciale lo riporta come elemento attrattivo lo riporta già nelle locandine e nel marketing promozionale ecco anche all'epoca i grandi formati formati panoramici quelli eh molto larghi più larghi che alti diciamo così a cui che non erano ancora scontati come sono oggi eh erano un'attrattiva e quindi il fatto che un film fosse girato in cinerama già di per sé costituiva un'attrattiva per il pubblico infatti vedete che il questo formato panoramico era ehm già evidenziato in in questa locandina i film girati con questo formato erano spesso dei film epici per esempio erano western epici oppure erano film biblici di cui vi parlavo prima quindi già il fatto che il formato fosse il cinerama garantiva l'idea di un tipo di spettacolo comunque molto coinvolgente e in più ehm spesso erano ehm dei documentari di viaggio giravano all'epoca dei particolari tipi di documentario di viaggio che avevano come finalità fondamentale quella di far esplorare agli spettatori in maniera immersiva e ricca dal punto di vista percettivo nuovi luoghi nuovi spazi e quindi il fatto che questo dramma epico veniva presentato come un'avventura di esplorazione esplorativa in realtà per gli spettatori dell'epoca suonava familiare suonava familiare perché i film girati in cinerama erano questo tipo di esperienza immersiva in una grande sala eh grazie alla quale ci si poteva immergere i luoghi mai visti Kubrick fa questo ma lo fa con lo spazio lo spazio siderale ehm è abbastanza interessante rendersi conto di tutto questo perché come fenomeno storico bisogna eh pensare che questo film fu un grandissimo successo se lo andiamo a vedere oggi forse non riusciamo neanche a immaginare per quale ragione possa essere stato un tale successo ma se andiamo a studiare il marketing eh e il modo in cui come dire gli spettatori dell'epoca si aspettavano questo film allora sì allora possiamo capire possiamo darci delle spiegazioni sulla fortuna che questo film ha avuto il che ci può aiutare anche a capire come si lancia un film e i nostri corsi di appunto di marketing aiutano in questa direzione a capire non soltanto come si fa il marketing ma anche a capire come viene e veniva lanciato storicamente un film da questo punto di vista 2001 è stato veramente un apripista per un tipo di concezione moderna di marketing e questo è soltanto il primo dei suoi meriti per gli altri versi si tratta di un film di fantascienza che voleva beh innanzitutto cerco di seguire le slide prometteva di essere un'esplorazione dello spazio quasi immersiva oggi sarebbe stata in realtà virtuale per così dire all'epoca si trattava di una esperienza immersiva da fare in sala si proponeva come tale e poi si apriva con delle immagini realizzate in Africa girate in Africa e con un titolo che diceva l'alba dell'uomo non vediamo lo spazio non vediamo il futuro ma vediamo il passato dell'umanità vediamo delle scimmie antropomorfe che beh insomma le vediamo fare diverse cose vediamo che vivono in comunità vediamo che sono inizialmente che sono inizialmente erbivore poi cominciano a diventare aggressive fra loro a dividersi in clan per la conquista di un corso d'acqua cominciano a picchiarsi cominciano a fare la guerra diventano carnivori insomma pian piano evolvono Kubrick in una ventina di minuti di immagini mute perché queste sono scimmie noi vediamo soltanto eventi che accadono davanti ai nostri occhi e dobbiamo anche essere attenti perché altrimenti non ci accorgiamo di alcuni dettagli per esempio ci sono vedete la seconda in alto a destra il secondo fotogramma in alto a destra nel quale noi vediamo queste scimmie che convivono con i tapiri che sono tutto sommato animali inoffensivi però privi di coscienza o meglio non hanno quel potenziale che farà sì che poi le scimmie uccideranno i tapiri e li mangeranno e poi vedete invece in questo terzo fotogramma la creazione di gruppi intorno a un corso d'acqua per avere la supremazia Kubrick ci mostra in questi 20 minuti in cui si parla soltanto di scimmie e di dinamiche di questo tipo ci mostra la nascita della coscienza umana senza parole e senza senza che sia stato ancora detto niente ma una cosa che voglio sottolinearvi soltanto sperando che si veda abbastanza è il modo in cui sono state realizzate queste inquadrature chi ce le ha presente probabilmente sa quanto sono nitide e brillanti il film è un film del 1968 se noi lo confrontiamo con altri film del 68 ci sembrano film di epoche diverse questo perché Kubrick teneva moltissimo alla nitidezza dell'immagine alla qualità dell'immagine proprio perché il film era venduto innanzitutto come esperienza sensoriale quindi visivamente doveva essere visivamente gratificante allora realizzò queste inquadrature mescolate facendo utilizzo innanzitutto di diapositive sostanzialmente di grandi diapositive proiettate ma diciamo mescolò un po' come si fa oggi con il chroma key con le nuove tecnologie a servizio di scenografie che integrano spazi praticabili sul set e immagini ricostruite sostanzialmente utilizzò una parte di set praticabile che è quello per esempio che vediamo qui in primissimo piano praticabile significa che può essere attraversato da queste scimmie queste scimmie naturalmente anche qui il discorso sarebbe interessante ma non facciamo in tempo ma sono degli attori vestiti da scimmia che hanno fatto un particolarissimo training per diventare espressivi con il corpo e qui dal punto di vista dello studio della recitazione ma anche proprio del training attoriale e dell'espressività o corporea si aprirebbe tutto un capitolo che adesso non apriamo ma che sarebbe interessante aprire e che i nostri studi sia i nostri corsi sia sul cinema che sul teatro vi aiutano a intraprendere è un tipo di riflessione che si intraprende nei nostri corsi triennali dal punto di vista della scenografia mi preme per l'appunto sottolineare questa integrazione molto ben riuscita perché Kubrick lavorava molto a lungo su questi aspetti tra una parte praticabile di set che vediamo in primo piano e uno sfondo che in realtà è fotografico e proiettato per avere questo tipo di nitidezza e di integrazione tra primo piano e sfondo Kubrick utilizza una tecnica che per l'epoca era abbastanza laboriosa cioè costava soldi e tempo che era la proiezione frontale sapete chi di voi ha un po' di dimestichezza con film degli anni 50 sa che spesso si utilizzava la retro proiezione scene di automobile per esempio di un film degli anni 50 presentano spesso dei fondali che sono in realtà poco realistici sono sfumati perché in realtà venivano retro proiettati rispetto all'attore che non stava realmente guidando e poi il tutto veniva ripreso dalla cinepresa con un effetto di scarsa integrazione ma anche di scarsa credibilità della relazione tra vettura e sfondo in questo caso ma proprio per evitare quella differenza Kubrick proietta frontalmente come funzionava la proiezione frontale in buona sostanza anziché una proiezione appunto alle spalle degli attori diciamo così che alle spalle degli attori c'era un grande schermo fatto di piccoli frammenti di specchio ma molto piccoli che quindi riflettevano la luce non si limitavano soltanto a proiettare non era uno schermo che proiettava ma era uno specchio fatto di piccoli frammenti che riflettevano la luce e di fronte al set davanti agli attori veniva proiettato questo sfondo che era stato fotografato direttamente in Africa e a quel punto lo schermo lo ingrandi lo schermo dietro agli attori lo rifletteva ingrandito ma con un'enorme nitidezza dei particolari ragione per cui appunto noi vediamo questo film sul grande schermo e ci rendiamo conto che lo sfondo è tutto a fuoco ed è perfettamente credibile diciamo come come prolungamento di quella parte iniziale di set praticabile che vediamo in primissimo piano tutto questo naturalmente costava tempo e costava e costava e costava denaro ma una delle cose che Kubrick che voleva essere un artista del cinema ma che Kubrick comprese presto l'aveva già capito da qualche anno era che per esprimersi bene al cinema bisognava dialogare con l'industria e quindi cercare di avere a disposizione il budget che consentisse poi di realizzare al meglio l'idea cinematografica che lui voleva esprimere idea cinematografica significa non un'idea che qualcuno esprime verbalmente un personaggio che dice cose sull'umanità ma il tipo di messa in scena e di esperienza audiovisiva che il film crea per lo spettatore e tutto il discorso di cui parlavo prima a cui accennavo prima sull'umanità sulla nascita della coscienza e sul posto degli esseri umani nella natura e poi nello spazio è reso attraverso eventi audiovisivi non attraverso parole in una prima versione c'erano degli esperti la prima versione prevedeva prima di queste immagini africane prevedeva delle brevi interviste a degli esperti di filosofia di teologia di scienze eccetera oggi peraltro sono pubblicate queste interviste quindi si possono leggere col titolo interviste extraterrestri ma appunto erano le interviste del breve documentario falso documentario che doveva precedere l'alba dell'uomo l'episodio africano di 2001 disse nello spazio in quelle interviste si poneva esplicitamente il problema del posto dell'uomo nell'universo della religione del rapporto tra la vita terrestre e la vita aliena tutte questioni di cui il film poi parla e di cui inizialmente Kubrick aveva sentito il bisogno di far parlare espressamente attraverso la voce di alcuni esperti della materia che poi però sono stati tagliati proprio perché in realtà non era necessario dare un taglio specifico era importante invece lasciare lo spettatore libero di intuire e sottolineo intuire i temi del film legati alla religione alla vita extraterrestre al posto dell'universo al posto dell'uomo nell'universo e alle relazioni fra esseri umani e fra bande rivali farlo intuire allo spettatore e poi a partire da questa intuizione far partire eventuali interpretazioni Kubrick fu tra i primi a capire una cosa fondamentale cioè che l'interpretazione è parte del piacere che noi abbiamo quando vediamo un film cioè che tutto sommato se un film non ci dice tutto ci coinvolge di più ci coinvolge di più perché ci spinge a rivederlo ci spinge a parlarne a discuterne Kubrick ricevette decine di lettere da parte di spettatori comuni che gli parlavano di religione gli parlavano di umanità eccetera eccetera e allora non c'era bisogno degli esperti che dava che così non c'era bisogno di quel segmento di intervista agli esperti che avrebbe dovuto dare una chiave di lettura della quale non c'è bisogno era sufficiente sì compiere un'esperienza audiovisiva secondo Kubrick e una tra le più note è l'apparizione del cosiddetto monolito nero cioè questa entità aliena possiamo dire aliena ma anche se dal film si capisce fino a un certo punto c'è da dire che il film è tratto da un racconto di Clark che poi scrisse anche il film tratto liberamente da questo racconto che chi vuole può andarsi a leggere per avere un'idea della fonte ma è evidente che quando mettiamo quando poi analizziamo un film noi dobbiamo capire come è fatto il film e non dobbiamo cercare il significato nel romanzo o nel racconto di partenza così come c'è una serie di significati che vengono che sono stati esplicitati nella novellizzazione cioè nel romanzo tratto dal film in quegli anni c'era questa pratica che oggi credo sia praticamente sparita cioè quella di non solo trarre film da racconti preesistenti ma realizzare i romanzi tratti dal film per cui usciva in libreria dopo insieme o dopo l'uscita in sala un romanzo che non era un romanzo di partenza un'opera letteraria ma era un romanzo tratto dal film va bene era il modo di fare narrazioni cross mediali dell'epoca ecco nel romanzo uscito a seguito di 2001 di Senna lo spazio nelle sale si spiegano alcune cose che il film non spiega va bene però in realtà non è possibile tecnicamente se vogliamo essere rigorosi se vogliamo capire l'audiovisivo e capire come è fatto il film non è corretto andare a cercare nel romanzo quelle spiegazioni che il film non dà piuttosto dobbiamo essere in grado di arrivare ad analizzare il film a frammentarlo e a possederlo per così dire cioè a capire come funziona per essere in grado di dire con certezza questo significato c'è ma è nascosto oppure questo significato non c'è ce lo porto io dall'esterno oppure sta soltanto nel romanzo ma il film non ne parla il film lascia aperto all'interpretazione allora questo monolito nero il segno di questa presenza astratta perché è una figura geometrica che a un certo punto appare appare alle scimmie ma poi appare agli umani più avanti quando si arriva veramente a parlare della vita nel futuro inizialmente anche questa era una presenza un pochino più marcata cioè faceva delle cose che non vi sto a dire ma era una specie di schermo che proiettava delle immagini attraverso cui qualcuno intendeva insegnare agli umani o alle scimmie innanzitutto a fare cose ed evolvere quindi doveva essere una specie di schermo che mostrava che insegnava a utilizzare la tecnica per dominare la natura in buona sostanza ma questa funzione gli è stata negata nella sua versione poi che vediamo sullo schermo ragione per cui questo monolito nero cioè questo grosso parallelepipedo che sembra un grande totem e che non riflette niente perché è nero per l'appunto non è più quello di mostrare qualcosa ma è soltanto il fatto che lui appaia frontalmente la sua presenza che fa intuire qualcosa a chi agli umani che lo incontrano e lo sfiorano a seguito di questi incontri con Dio con gli alieni con entità a cui non sappiamo dare un nome tutte queste cose guardate questo film è stato interpretato in tutti i modi che potete immaginare cioè il monolito è l'alieno è una forma di vita alternativa è una parte della mente umana ovvero la coscienza è un totem si possono dare tutte le interpretazioni possibili perché lui è muto è soltanto una presenza muta che proprio in quanto tale ci obbliga a sforzarci di dare un senso e questa è l'idea che da un lato ha fatto sì che il film sia stato veramente molto interpretato secondo tante chiave interpretative ma consente anche a noi stessi spettatori di mettere in moto i nostri pensieri per cercare di dare un senso che cos'è questo monolito nero e che cos'è questo film così complicato che parte dalla vita all'alba dell'umanità e poi ci parla del futuro prossimo e ci parla addirittura del raggiungimento di altre dimensioni fatto sta che dopo ogni incontro con questo monolito nero che noi possiamo appunto identificare con tanti principi c'è sempre nel film accade sempre qualcosa che possiamo interpretare come un salto di coscienza quindi un salto evolutivo e questo è il momento in cui appunto a seguito del primo incontro la scimmia che nei titoli si chiama moon watcher guarda la luna comincia a capire qualcosa e guardate in che modo Kubrick ci mostra quello che possiamo chiamare in tanti modi ma che innanzitutto chiamerei la nascita della coscienza nei proto umani che vediamo nel film questa è una scimmia che semplicemente sta giocando con una carcassa di animale con degli ossi lui ha appena visto noi qualche istante prima abbiamo visto quell'immagine cioè quel monolito osservato dal basso cioè dal suo punto di vista frontalmente sapete che per restituire il senso del sacro spesso i cineasti utilizzano l'inquadratura frontale ci sono delle spiegazioni percettive per questo perché semplicemente noi siamo portati a considerare salienti le forme simmetriche e quindi l'inquadratura frontale simmetrica normalmente per noi è saliente cioè ha una particolare rilevanza rispetto alle altre perché noi attribuiamo a quell'inquadratura alcuni tratti che normalmente attribuiamo agli esseri viventi perché per noi il vivente è fatto come gli esseri umani cioè simmetrico e quindi le inquadrature simmetriche non sono indifferenti per noi in buona sostanza allora e non solo avete visto che non è soltanto il monolito visto dal basso ma il monolito visto dal basso in una particolare condizione di allineamento dei pianeti cioè di allineamento tra luna terra e sole che nel film corrisponde a una particolare eventualità che consente appunto l'apparizione del monolito e dunque il salto evolutivo di fronte a questa carcassa mentre sta semplicemente perdendo tempo perché avete visto non sta facendo niente noi abbiamo questa immagine che abbiamo visto pochi istanti prima ma che adesso rivediamo è la prima immagine mentale del film Kubrick non ce lo non ce lo sottolinea abbastanza ma questo è ciò che la scimmia sta ricordando e contemporaneamente sta mostrando quell'immagine a noi spettatori vuole che anche noi spettatori come la scimmia ricordiamo quello che abbiamo visto pochi istanti prima con la stessa identica inquadratura che ci viene riproposta e dopo quell'inquadratura parte un brano musicale così parlò Zarathustra di Strauss che Kubrick utilizza nel traendolo dal repertorio dal repertorio della musica colta che che struttura la colonna sonora di questo film e a questo corrisponde un momento di presa di coscienza nel frattempo noi capiamo che la scimmia pensa perché muove la testa da questo punto di vista è interessante veramente studiare l'espressività corporea di questi primi minuti del film e qui è accattato perché il rosso viene afferrato e forse non l'avete sentito bene per cui fermo si sente anche il rumore va bene Kubrick non toglie il rumore sempre interessante rendersi conto di quanto rumore d'ambiente viene lasciato in segmenti musicali come questo perché se viene lasciato normalmente è significativo effettivamente a noi in questo momento interessa tanto la musica soprattutto per la sua capacità espressiva ma ci interessa anche il rumore di quest'osso perché ma perché molto semplicemente noi stiamo assistendo alla prima volta in cui un essere umano un proto essere umano comincia a utilizzare in maniera strumentale quello che poteva trovare in giro normalmente un osso per l'appunto un oggetto qualunque che non è stato pensato per essere una clava ma che così provando innanzitutto a tempo perso ma poi in maniera sempre più consapevole diventa un oggetto che può essere utilizzato per fare rumore facendo saltare in aria la carcassa che qui il soggetto ha di fronte che pubblica scelga i brani soprattutto per la loro qualità espressiva qui gli interessava la natatura ascensionale non a caso kubrick decide di inquadrarcelo dal basso l'inquadratura dal basso normalmente evoca potenza cioè attribuisce potenza alla figura inquadrata ma non si tratta soltanto di questo allo stesso tempo qui l'inquadratura dal basso ci sottolinea visivamente una cosa cioè restituisce una sensazione che prima non avevamo cioè che la postura sia eretta per l'appunto cioè che improvvisamente da parte dell'ambiente questo soggetto diventa il soggetto che domina l'ambiente e questo come vedete ci viene restituito tutto attraverso forme audiovisive per l'appunto e non solo questo soggetto è talmente il perno di questa scena che noi abbiamo nuovamente la possibilità di accedere alle sue immagini mentali a cosa sta pensando non ne avremo bisogno perché in realtà noi lo capiamo lo capiamo che cosa sta succedendo lo vediamo dapprima utilizzare una clava senza ragione e poi lo vediamo mentre capisce qualcosa e insieme a lui anche noi cominciamo a capire qualcosa noi spettatori grazie anche alla musica che ci sottolinea che questo è un momento importante va bene il tapiro che cade a terra ovvero il pensiero non soltanto di che cosa c'è stato prima noi prima abbiamo visto per qualche istante un ricordo va bene della scimmia che ricorda l'apparizione del monolito ricorda di aver capito qualcosa di fronte all'apparizione di questo monolito adesso vediamo un'immagine di lui che pensa agli effetti possibili di quello che sta facendo ovvero tradotto verbalmente ma non c'è bisogno di tradurlo verbalmente perché appunto questo film è una sinfonia audiovisiva non ha bisogno di significati verbali questa clava può essere utilizzata per uccidere gli animali per uccidere e quindi dominare la natura non vi sarà sfuggito il fatto che l'attore che interpreta Moonwatcher a questo punto non soltanto assume una postura diversa che è enfatizzata dalla cinepresa ma è anche la sua postura eretta ma diventa più più cattivo diventa si fa si fa più irruento comincia a infierire su questa carcassa con maggiore violenza lo fa assumendo una postura eretta lo fa afferrando con due mani questa clava per colpire più forte queste sono tutte forme di consapevolezza implicita che Kubrick ci dà cioè se non facciamo l'analisi di questo frammento e oggi avremo faremo un tempo a fare soltanto l'analisi di questo frammento quasi non ci rendiamo conto di quante cose stiamo in realtà capendo e cioè di quanto un film attraverso le immagini i suoni le immagini e le musiche riesca a comunicare non voglio dire subliminalmente ma a un livello che sta sotto al livello della coscienza diceva Kubrick in realtà non perché non sia cosciente noi ce ne accorgiamo però abbiamo bisogno di fare l'analisi e di dircelo per renderci conto di quello che sta succedendo afferrare con due mani per colpire con maggiore violenza in maniera tale da uccidere un animale più grande della scimmia stessa e non solo poi abbiamo dei dettagli a ralenti che ci confermano tutto questo ma vedete com'è attento e com'è accurato il montaggio di Kubrick in questa scena perché il ralenti ci consente di apprezzare non soltanto di dare enfasi al gesto sapete che oltre all'inquadratura dal basso il cinema ha delle convenzioni diciamo e normalmente utilizzare il ralenti serve a dare enfasi a un gesto cioè un gesto che dura pochi istanti il ralenti ce lo mostra in tutta la sua potenza ma non solo non è soltanto il gesto di colpire con questa nuova arma è anche l'espressione facciale ed è interessantissimo perché in realtà in questa scena tutto quello che accade accade indipendentemente dalle espressioni facciali ci sono pochissime espressioni facciali cioè pochissimi primi piani di questi soggetti che ci vengono mostrati invece a gruppi come abbiamo visto in quei fotogrammi che vi ho mostrato prima ci vengono mostrati a figura intera pochissimi primi piani lo spettatore dell'epoca era già abbastanza abituato a un linguaggio fatto quasi soltanto di primi piani qui Kubrick comincia a farci abituare a un modo diverso di trattare il linguaggio cinematografico che si basa non tanto sul primo piano quanto sulla presenza a figura intera dell'essere umano adesso ci sembra normale perché siamo quasi abituati a non avere primi piani di scimmie va bene perché le scimmie comunicano con tutto il corpo ma in futuro ci renderemo conto quando il film passerà a raccontarci la vita di questi esseri umani nel futuro e non più nel passato ci renderemo conto che l'utilizzo del primo piano è quasi altrettanto scoraggiato per delle ragioni abbastanza specifiche e le ragioni sono che a Kubrick non interessa raccontarci la vicenda di singoli esseri umani a Kubrick interessa raccontarci la vicenda di una specie di cui i singoli sono soltanto degli esemplari e dimostrarcela piccola rispetto all'ambiente cioè dimostrarci quanto insignificanti gli umani sono rispetto all'ambiente che pure vivono per dominare e questo è molto interessante ed è un concetto che ho espresso verbalmente ma che non viene mai detto viene soltanto costruito audiovisivamente per noi che alla fine del film ci abituiamo effettivamente se riusciamo a entrarci dentro ci abituiamo a fare esperienza di un mondo senza legge di gravità non dominato dalla prospettiva umana addirittura con inquadrature fuori asse o in cui le figure umane sono mostrate obliquamente in cui manca la forza della gravità e tutto questo affronta soltanto di momenti di coscienza e di presa di coscienza che vengono però per così dire portati all'umanità dall'esterno dalla presenza di questi esseri di queste entità che sembrano governare governare l'evoluzione umana in cui Kubrick ci mostra la vicenda di un singolo poi per moltissimi minuti e per moltissime scene non vedremo più singoli vedremo gruppi vedremo gruppi piccoli nello spazio cosmico ma qui c'è una specie di ironia Kubrick interessava mostrare soltanto quel momento di impeto molto pieno di sé in cui l'umano pensa di aver capito e pensa di aver trovato come dire lo strumento giusto per dominare lo spazio e l'ambiente non a caso adesso qui l'ho fermato il fotogramma non è chiarissimo ma vediamo la scimmia con un pezzo di carne cruda in mano cioè dominando l'ambiente gli umani diciamo così sono diventati anche carnivori per l'appunto possono uccidere per nutrirsi di tutto questo questo film ci parla perché poi non fa altro che parlarci di di bande rivali e di strumenti sempre più sofisticati sempre meno materiali sempre più cerebrali che servono all'umanità per dominare non soltanto più l'ambiente naturale ma lo spazio cosmico con riferimenti alla guerra fredda che nel 1968 quando il film è stato realizzato era una realtà molto molto presente va bene io vi ringrazio mi spiace di non poter dire di più ma spero che questo sia stato un piccolo assaggio di quante sono le prospettive storiche stilistiche tecnologiche i nostri corsi si occupano di questi aspetti ogni corso si occupa di un aspetto specifico però tutti insieme dovrebbero avere questo come obiettivo cioè fare di voi dei professionisti che sono in grado di esplorare l'audiovisivo e di conoscerlo un po' a 360 gradi grazie 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 allora una prova le persone collegate da casa riescono a sentirmi? se mi sentono magari un piccolo riscontro si si sente si sente se poi ci vedeste anche sarebbe addirittura perfetto però non lo so se ci vedete si vi vediamo ah benissimo fantastico si è filosofia la registrazione è avviata si la registrazione è avviata automaticamente bene direi che possiamo forse cominciare visto che anche da casa si si sente bene mi pare che siamo tutti qui presenti anche in aula le persone interessate a partecipare allora qualche breve presentazione mi sono già presentato invece la mia collega e amica Daniela Angelucci eccola qui buongiorno a tutte e a tutti io insegno estetica qui a Roma 3 estetica è una disciplina che necessita a volte una spiegazione rispetto ad altre materie come filosofia morale filosofia politica che hanno un significato un po' più immediato però diciamo magari ve lo dirò più avanti ha una data di nascita precisa è un nome inventato che appunto è stato inventato nel settecento da un autore che pensava fosse necessario questo contenitore per tutta una serie di argomenti come l'arte la sensibilità la teoria del bello e appunto i miei corsi si occupano di questo in vario in vario modo e insegno sia alla triennale che alla magistrale di filosofia per ora dico questo della mia attività forse vogliamo prima raccogliere le domande sì in effetti prima di presentarvi una lezione che è anche un po' un esempio del modo in cui si insegna qui a Roma 3 però vorrei cominciare vorremmo cominciare raccogliendo magari delle domande che sono rimaste un po' in coda in Aula Magna spesso capita e che invece qui possono essere tranquillamente rivolte anzi vi possiamo rispondere con maggiore calma anche due altre persone molto importanti per il nostro corso che sono qui in Aula e vi voglio presentare sono Chiara Siderati già la conoscete una nostra iscritta e Laura Marroco che con cui insomma certamente quanti di voi si iscriveranno avranno spesso modo poi di confrontarsi nei prossimi mesi della nostra segreteria didattica che insomma è davvero una presenza imprescindibile per l'organizzazione dei nostri corsi quindi anche loro sono qui anche loro sono disposti ovviamente a rispondere nel caso fosse necessario proprio per questa ragione magari anche da casa se ci sono delle domande basta aprire il microfono e rivolgerle siamo molto contenti di rispondere anche a chi in questo momento si trova a casa in classe non so se ci sono delle domande che ne vedo già alzate le mani in maniera molto come dire forte e chiara allora va bene cominciamo dal fondo no 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 lei con la mascherina nera prego non si giri dietro a lei lei con gli occhiali e la mascherina lei mi ha fatto la palzata la mano si allora lo dico per chi è a casa e forse non ha ascoltato la domanda per ragioni così di amplificazione si chiede quale attenzione viene rivolta a Roma 3 non solo agli autori classici ma anche alla filosofia al dibattito contemporaneo bene vi dico subito che io personalmente insegno storia della filosofia antica ma se siete interessati ai dibattiti più recenti del sapere filosofico e del sapere filosofico in relazione alle altre forme di sapere beh insomma credo che Roma 3 sia il posto giusto proprio perché Roma 3 sia per la sua tradizione sia per il tipo di insegnamento che viene impartito ha una spiccatissima vocazione verso la contemporaneità nei vari ambiti della filosofia politica delle filosofie delle scienze dell'estetica Roma 3 è assolutamente dentro il dibattito più contemporaneo che trova propria espressione negli insegnamenti anche su questioni come il rapporto tra filosofia e ambiente ma proprio su questi temi darei senza altro la parola a Daniela sì grazie Riccardo sì è proprio la domanda per me diciamo nel senso che io da alcuni anni intanto il corso di estetica per la triennale naturalmente ha una parte introduttiva quindi anche con autori classici ma cerco sempre da qualche anno Chiara lo sa di inserire una serie di letture più contemporanee a tematiche che sono le tematiche classiche del pensiero estetico faccio un esempio per farvi capire vi dicevo prima estetica ha significato nel corso della storia del pensiero occidentale teoria della sensibilità teoria del bello teoria delle arti in questi ultimi anni lavorando sul tema del bello e del sublime che è un concetto diciamo collegato e anche però differente da quello della bellezza oltre ai classici sul sublime inserisco inizialmente con un certo timore perché comunque sono autori complicati ma ho visto che funziona anche alla triennale una serie di autori del novecento che hanno lavorato su questo concetto come Lyotard Deleuze eccetera questa diciamo per quello che riguarda proprio la mia materia poi Riccardo parlava di ambiente alludendo ad un altro progetto che insomma mi riguarda insieme ai colleghi di morale e di politica ma anche tenendo insieme alcuni colleghi che si occupano di paesaggio ad architettura e urbanistica e cioè stiamo lavorando da ormai sette anni ad un corso post laurea di cui però diciamo alcune parti sono offerte diciamo nell'offerta formativa anche dei laboratori di filosofia per gli studenti e le studentesse di filosofia ha una possibilità di un lavoro transdisciplinare sulla tematica della crisi socioambientale dico socioambientale e non solo ambientale perché appunto la questione dell'ambiente si collega ad altre questioni sociali e politiche più ampie e stiamo cercando di immaginare un modo per le discipline umanistiche per le humanities si direbbe oggi di partecipare al dibattito anche se volete a produrre nuove narrazioni nuovi immaginari su questo tema per non lasciare il campo diciamo soltanto a chi si occupa di scienze dure allora secondo noi c'è una possibilità anche per la filosofia di lavorare intorno a questi temi e ovviamente su questi temi gli autori le autrici ci sono moltissime autrici lo dico a tutti non solo alle ragazze ma insomma ci sono tantissime autrici della filosofia contemporanea che hanno dato contributo forse avrete sentito anche Donna Haraway per esempio Rosie Braidotti eccetera autrici con cui su cui e anche con cui a volte lavoriamo su queste questioni quindi come pensare la crisi socioambientale dal punto di vista della filosofia nell'intreccio naturalmente con le altre prospettive perché l'idea anche della nostra contemporaneità è che certe tematiche non possano essere lasciate ad uno specialismo così stretto questo non vuol dire che ognuno non debba portare il contributo della propria formazione ma è interessante anche vedere un po' esporsi all'incontro con altre prospettive quindi sicuramente questo tema è un punto diciamo molto forte poi voglio aggiungere un'altra cosa che mi riguarda meno personalmente sempre sugli studi diciamo contemporanei di filosofia contemporanea c'è ormai direi una tradizione forse di una decina d'anni di una grande riflessione grande diciamo lavoro sulla questione del genere quindi abbiamo un master di studi di genere in particolare se ne occupa è direttrice la professoressa Federica Giardini che insegna filosofia politica e che è insomma esperta e lavora su questo ormai da tanti anni quindi direi che già queste due questioni femminismo transfeminismo studi di genere da una parte crisi socioambientale dall'altra riuniscono molti autori e autrici del dibattito contemporaneo avrete modo perché poi anche quando i progetti sono rivolti ai corsi post laurea alla magistrale abbiamo sempre in questi anni cercato il modo per gli studenti della triennale che fossero interessati di partecipare insomma di poter assistere a delle lezioni con laboratori incontri seminari quindi questo secondo me anzi è un punto direi forte della nostra università assolutamente sì aggiungerei un ultimo punto di strettissima attualità tra gli insegnamenti che i laureati in filosofia in genere seguono gli esami che sostengono sono quelli di storia ecco Roma 3 e il nostro dipartimento ha uno dei gruppi più importanti in Italia e non solo di storici contemporanei con speciale attenzione all'Europa orientale e in questo momento insomma è un argomento di estrema attualità i nostri storici il nostro direttore Roberto Morozzo il professore Adriano Rocucci sono tra i maggiori esperti della storia dei Balcani dell'Ucraina della Russia e hanno sempre una visione molto attenta nei loro insegnamenti nell'unire storia geopolitica quindi anche questo insomma è un elemento che credo possa essere considerato in questa apertura al contemporaneo se abbiamo risposto alla sua domanda io darei la parola invece c'era una ragazza se non sbaglio prego sì allora è una domanda allora la vostra collega come dico sempre a lezione so che è un modo di esprimersi un po' antiquato insomma ci ha chiesto come si procede per i piani di studio allora sapete bene che quando si deve sostenere un esame bisogna che l'esame sia incluso in un piano di studio che è un po' la scaletta del vostro percorso formativo viene compilato online tutto si svolge online dal primo settembre al 15 dicembre e poi c'è anche una finestra in primavera nel mese di aprile il piano di studio per la laurea triennale in realtà non ha moltissime opzioni a scelta proprio perché la laurea triennale prevede un insieme di insegnamenti di base che tutti devono sostenere poi ci sono delle discipline caratterizzanti che vuol dire che si può scegliere in una ristretta fascia di discipline e poi discipline affini e a scelta quindi vediamo c'è una gradazione dalle discipline di base a quelle a scelta diciamo questo il piano di studio è concepito per garantirvi una formazione istituzionale su istituzioni di filosofia ma anche su discipline come la storia le scienze umane e poi per poter personalizzare il vostro piano di studio vi darei soltanto due suggerimenti molto generali il primo se vi iscriverete a Roma 3 a ottobre in genere c'è un pomeriggio in cui il coordinatore io sono stato coordinatore per tanti anni prossimo anno ce ne sarà un altro vi spiegherà come funziona il corso di studio e vi dirà quali sono le scadenze come si compila il piano di studio quali sono le persone a cui rivolgervi ma non è soltanto questa presentazione ci sarà uno sportello online e in segreteria in cui dei borsisti e delle borsiste vi aiuteranno nella compilazione del piano di studio quindi questo adempimento che certamente può essere un po' scorbutico perché è la prima volta che si va a compilare un documento del genere non sarete mai lasciati soli ci sarà sempre un ausilio e l'invito il forte invito è quello di servirvi di questi strumenti che il corso di studio vi mette a disposizione quindi tutorato le matricole hanno un tutor individuale nel senso che a seconda della lettera del vostro cognome avete un docente responsabile per consigliarvi nelle scelte di contenuto per gli adempimenti amministrativi oltre allo sportello della segreteria c'è anche uno sportello online in cui altri studenti e studentesse vi guidano nella compilazione quindi diciamo sono adempimenti in cui avrete sempre qualcuno a cui far riferimento e lì poi vi daranno forse dei consigli più specifici per esempio io do sempre questo consiglio ci sono degli esami che vanno sostenuti per poter insegnare per esempio filosofia nelle scuole secondarie superiori gli esami di storia 30 segreti di storia 12 di medievale 12 di storia romana 12 di contemporanea ecco questi esami è bene cominciarli a sostenere fin dalla laurea triennale perché se uno si lascia questi esami sempre in coda poi arriva la laurea magistrale che non ha più spazio per collocarli nel piano di studio e magari devi sostenerli come corsi a pagamento non ha senso questi esami oppure gli esami di tipo antropologico psicologico e pedagogico anche questi richiesti per insegnare è bene che in una buona percentuale siano già sostenuti nel corso di laurea triennale insomma sono tutti sono tutti diciamo suggerimenti pratici che in ogni caso vi saranno abbondantemente ripetuti nel momento in cui verrà il momento di compilare il piano di studio un punto fondamentale non è che una volta compilato il piano di studio è quello per tutti e tre gli anni il piano di studio si può cambiare in ogni finestra consentita non quando uno vuole ma ogni anno dal primo settembre al 15 dicembre dal primo al 30 aprile è possibile cambiare il piano di studio per cui ammettiamo che io a novembre abbia compilato e approvato un piano di studio in cui non c'è un esame che io invece voglio seguire me ne accorgo dopo potrò cambiare il piano di studio ad aprile inserendo quell'esame in modo tale che io possa sostenerlo a giugno certo non posso compilare non posso cambiare il piano di studio a gennaio per sostenere l'esame a febbraio perché la prima finestra scade a dicembre però ogni anno ci sono due ampie finestre in cui il piano di studio già presentato può essere cambiato secondo una griglia che è una griglia definita e che però consente una ampia personalizzazione poi ci sono le idoneità linguistiche tirocini nelle cosiddette attività scelta questo come prima risposta insomma poi ovviamente se ha dei dei quesiti un po' più specifici può chiedere a Chiara o a Laura che daranno risposte più particolareggiate ho risposto alla sua domanda le discipline obbligatorie sono le discipline filosofiche fondamentali quindi filosofia morale filosofia della scienza estetica storia della filosofia e sono le cosiddette discipline di base non è possibile arrivarsi in filosofia senza aver conseguito questi esami poi quando lei andrà a vedere nella finestra dei piani di studio vedrà discipline caratterizzanti per esempio alcuni ambiti disciplinari bisogna per forza sostenere un esame di quell'area lì per esempio l'ambito antropologico l'ambito ecco storia della filosofia antica o medievale cioè sono strutturate in questo modo però diciamo le discipline obbligatorie sono discipline anche storiche credo storia contemporanea e poi le istituzioni di filosofia cioè i settori di base di filosofia quindi da storia della filosofia filosofia teoretica logica e filosofia della scienza filosofia morale e queste sono le discipline di base per un corso di filosofia ovviamente un po' soltanto aggiungere una cosa sui piani di studio dato che adesso non so se Laura sarà d'accordo con quello che dico essendo io tutor quindi mi capita di appunto parlare con gli studenti con le matricole dei piani di studio c'è molta ansia su questo piano di studio perché uno deve scrivere decidere consegnare eccetera in realtà appunto ricordate che all'inizio praticamente di ogni anno accademico il piano di studio si può cambiare con facilità online e che tutto sommato è quasi previsto che lo cambiate nel senso sarebbe strano se arrivate con un'idea e nel corso poi di tutte le lezioni tutti i corsi non ve le facciamo cambiare in qualche modo anche sui vostri interessi quindi non è che cambiarlo poi l'anno dopo è un dimostra che avete sbagliato anzi dimostra che avete più idea di quello che si studia di quello che proponiamo di quello che si può fare quindi ovviamente non compilarlo alla cieca anche perché alcune domande alcune alcune materie sono obbligatorie alcune sono caratterizzanti quindi questo no ma sicuramente qualche cambiamento è previsto si può fare senza difficoltà ma proprio senza difficoltà burocratica intendo è molto semplice e quindi insomma vi consiglio capisco un po' va dove va l'ansia il primo anno però invece si può forse cambiare facilmente sì tenendo conto anche di questo ripeto ancora una volta c'è una componente burocratica nell'università ma in realtà è meno traumatica di quanto uno possa pensare l'importante è che voi come dire siate capaci di raccogliere gli spunti e le risorse che vi dà il corso di studio cioè se c'è un tutorato fate ricorso al tutorato se ci sono degli sportelli prenotatevi allo sportello online perché diciamo noi facciamo il possibile per mettervi a disposizione degli strumenti poi sta a voi servirvene quando magari certe volte a gennaio in questi anni mi arrivavano se voi non presentate il piano di studio ve ne dimenticate a gennaio non potete sostenere esami o meglio potete sostenere solo gli esami di base quelli obbligatori ecco quando magari mi arrivano mi sono arrivato in tanti anni delle mail di studenti che a gennaio mi dicono ma io non ho presentato il piano di studio e quindi non posso sostenere esami beh la prima risposta che uno dà ma perché non è presentato il piano di studio in tre mesi insomma con segreteria sportello dedicato presentazione del corso ecco tutte queste cose ovviamente è importante che noi ve le mettiamo a disposizione ma è molto importante che voi ve ne serviate altrimenti è ovvio che non non sono efficaci ecco prego allora questa è una bella domanda il vostro collega ha chiesto quanto il dibattito con gli studenti e lo scambio con gli studenti fa parte delle lezioni vi posso dire una piccola pubblicità comparativa che i nostri corsi vanno bene ma va bene soprattutto va bene vanno bene tutti ma un nostro fiore all'occhiello è il corso magistrale di scienze filosofiche perché raccoglie tanti ragazzi che si iscrivono in trennale in altri atenei a filosofia e che dopo l'esperienza della triennale scelgono un corso più aperto verso gli studenti allo scambio con gli studenti cioè Roma 3 sia per ragioni puramente quantitative a meno iscritti di altri corsi di studio sia per il taglio che viene dato all'insegnamento anche un po' forse la fascia generazionale a cui appartengono i docenti ha un suo punto caratterizzante nello scambio con gli studenti uno scambio che è di vari tipi io per esempio nei corsi chiedo sempre che alla fine dell'esame sia preparata una tesina perché è importante che ci sia una prova scritta di cui discutere poi all'esame ma tutte quelle iniziative di cui vi parlava Daniel Angelucci master laboratori e anche nei corsi lo scambio le domande il lavoro condiviso con gli studenti è un punto io credo davvero caratterizzante dei nostri corsi la modalità tradizionale dell'insegnante universitario che entra in un'aula e vi espone le sue opinioni sul mondo in un clima di terrore senza possibile interruzione è l'antitesi di quello che viene fatto qui io ricordo che quando ero studente nella nostra università cugina mi ricordo che una persona osò porre una domanda a lezione e il docente la insultò e disse dice guardi è come se durante l'esecuzione dei concerti brandeburghesi di Bach lei si mettesse a fischiare ecco lasciando da parte l'autorappresentazione del docente che concepiva se stesso come insomma Bach rispetto alla musica ma se c'è un modo antitetico al nostro modo di insegnare è questo però anche su questo guardate è importante che anche voi facciate la vostra parte perché qui Daniela sicuramente lo sa capita molto spesso a lezione di sollecitare domande e di trovare il silenzio cioè l'università nasce come università dei docenti e degli allievi questa era l'università nel medioevo ecco anche voi dovete fare la vostra parte dovete essere attivi voi stessi nel partecipare alle lezioni nel condividere un tipo di lavoro nel non essere solo passivamente seduti in un'aula ecco questo no soprattutto non lo fate se siete interessati a scrivervi a filosofia perché filosofia diciamo è un corso che ha senso se viene studiato in modo partecipato altrimenti fate un'altra cosa insomma non perdete tempo a studiare filosofia ecco se studiate filosofia dovete farlo condividendo un interesse un percorso culturale una volontà di impegnarvi se no non ha senso può aggiungere che sicuramente c'è spazio come dice Riccardo nel dibattito allo scambio durante le lezioni ma anche per esempio quest'anno ci sono delle iniziative di dibattito tra studenti organizzate dagli studenti per gli studenti per esempio la prossima settimana mi ha scritto il rappresentante degli studenti di filosofia dicendo che stanno organizzando e il corso di laurea penso l'Ateneo non lo so gli ha assegnato un'aula apposta per questo tipo di iniziative un dibattito di estetica e mi chiedevano diciamo il mio contributo era semplicemente di consigliare qualche testo che poi la richiesta di consiglio mi è arrivata quattro giorni prima quindi questa bibliografia che gli ho dato non era proprio diciamo impegnativa però ecco quindi c'è anche questa possibilità e questo sinceramente mi sembra molto bello visto insomma tutto il periodo passato a casa tutti noi o comunque online quindi c'è c'è vita anche possibilità di scambio non solo diciamo verticale ma orizzontale tra di voi mi pare importante sì te lo stavo prego te lo stavo proprio per chi no allora per quanto riguarda questa domanda che a me poi questa un po' è l'aula emblema di filosofia perché facciamo tutte le lezioni qui infatti appena hai detto ma si fa dibattito sì tantissimo io mi ricordo appunto alle lezioni col professor Chiaradonna che parlavamo di Platone sui punti più problematici ci sono tanti discorsi attivi partecipativi e quello che io sostengo sempre è che io ho imparato a parlare all'università nel senso proprio ad esporre a sapere argomentare e questa è una cosa che soprattutto qui a Roma 3 mi sono ritrovata proprio a viverla come realtà concreta cioè la possibilità di dire sempre la propria di non aver paura di sbagliare di avere una ma ovviamente devono essere argomentazioni logiche non possiamo sostenere cose assurde senza una razionalità però è veramente bello questa possibilità di scambio la possibilità di scambio che c'è anche per esempio a livello delle tesine delle presentazioni come diceva il professor Chiaradonna ci sono moltissimi professori che richiedono la partecipazione in aula nostra nel senso proprio di fare delle pseudo lezioni in cui noi esponiamo magari una parte di programma o una parte ulteriore e c'è poi anche la possibilità nei laboratori per esempio quando abbiamo fatto il laboratorio di analisi dell'ambiente e del territorio con la professoressa Angelucci è stato bellissimo anche la possibilità di andare al Globe Theater quindi in un periodo critico come è stato quello della pandemia tutta l'impossibilità di lavorare che è stata data da alcune categorie come quelle per esempio degli artisti e è stato occupato questo teatro in cui si è fatto tantissima discussione e quindi ecco non è solamente questa cosa poi di lezione frontale molto statica e posticcia magari certe volte ma proprio anche questo scambio perché alla fine la ricerca si fa anche tra noi nel rapporto tra studente e insegnante ecco quindi questo vuole aggiungere allora ci sono altre domande? prego allora dunque lei mi chiede il riconoscimento di una laurea di Roma 3 in filosofia all'estero penso ci siano due cose distinte il riconoscimento dei titoli italiani all'estero è una cosa gestita dai vari paesi e non c'è uno statuto di Roma 3 c'è una normativa europea c'è però la possibilità per la laurea magistrale in due casi per storia della filosofia e per logica di seguire un percorso formativo binazionale nel caso di logica matematica con l'università di Marsiglia nel caso di storia della filosofia con la Sorbona a Parigi in questo caso attraverso una selezione e un concorso si seguirà metà del percorso formativo all'estero quindi della magistrale un anno all'estero e uno a Roma 3 o meglio il primo a Roma 3 e il secondo all'estero con una prova finale spesso in lingua in francese o comunque insomma diciamo con una doppia lingua ecco del percorso e in quel preciso caso la laurea che si consegue vale cioè un titolo sia italiano sia francese quindi i percorsi binazionali ci sono ce ne sono due chiaramente sono percorsi diciamo che hanno un numero limitato però c'è una prova di accesso e così via ma in quel caso alla fine uno ha un doppio titolo un doppio titolo che vale nei due paesi insomma certamente poi altra cosa ancora l'erasmus che non è il doppio titolo ma semplicemente la possibilità di seguire parte del proprio percorso di studio in un'università straniera prego prego allora guardi la i sui percorsi sugli sbocchi lavorativi di filosofia va detto questo cioè sono sbocchi lavorativi che non sono come dire automatici come possono essere quelli di ingegneria nel senso che si scrive ingegneria elettronica sa che farà una certa cosa nel caso di filosofia il percorso diciamo lo sbocco lavorativo è molto legato al modo in cui voi affrontate il percorso di studio faccio un esempio mancano delle banche dati nazionali per filosofia questo fa sì che ognuno sia un po' legato alla sua esperienza io vi posso parlare di quello che è stato per esempio l'esperienza di persone che si sono laureate con me alcune di loro hanno per esempio insegnano a scuola oppure stanno frequentando un dottorato per esempio ragazzi che hanno avuto un percorso internazionale con tirocini e così via lavorano in ONG una voi medici senza frontiere voi organizzazioni internazionali oppure lavorano una la mia allieva insomma che ha sostenuto una tesi proprio su Platone ma in questo momento in realtà lavora a Milano in una multinazionale nell'ambito delle risorse umane quanto riguarda il discorso filosofia scienza ovviamente quello che si può fare è impostare un percorso che abbia sia un percorso diciamo filosofico nella nostra struttura ma una stretta collaborazione con quel tipo di insegnamenti di cui le dicevo per esempio c'è un corso magistrale di scienze cognitive a scienze della comunicazione che è anche un laboratorio proprio sperimentale sullo studio del cervello rapporto evoluzione linguaggio in questo caso che cosa si fa nell'ambito di un corso di filosofia si inseriscono esami e laboratori in fondo stanno nelle nostre stesse locali gli insegnanti sono gli stessi diciamo così e quel tipo di percorso spesso dà uno sbocco anche sperimentale vuoi rapporti con il CNR rapporti con laboratori scientifici all'estero anche questo bisogna essere molto motivati noi proprio nel percorso io ero in commissione in un dottorato ed è stata ammessa una nostra una nostra laureata che aveva fatto per esempio esperimenti molto interessanti sul comportamento delle scimmie proprio perché la filosofia vi dà per fare questo ci vuole una formazione comunque scientifica che uno deve acquisire quindi esami fuori facoltà la disponibilità a far questo e quella visione in cui le questioni della scienza sono legate a questioni poi filosofiche non dimentichiamoci ecco qui era un po' la prima cosa che volevo dire nella mia lezione la filosofia non è mai stata una forma di sapere sviluppata come dire autonomamente dalle altre Platone e Aristotele erano degli scienziati oltre che dei filosofi e il ruolo della filosofia sta nel collegare le acquisizioni della scienza a delle domande di cornice di fondo che richiedono una formazione filosofica per esempio possiamo fare tantissimi esperimenti interessantissimi e avere una conoscenza empirica molto forte ma quando noi poi andiamo a definire il linguaggio i requisiti che permettono di individuare un linguaggio quello è un problema filosofico per eccellenza ecco questo è per esempio pure in altri ambiti quando dall'evidenza empirica sulle scienze fisiche si passa a problemi come quello di stabilire qual è la nozione di oggetto che emerge da queste qui effettivamente sono i grandi problemi della filosofia ha un risposto alla sua domanda? io ho citato un nome ah sì benissimo quello che volevamo dire nella nostra lezione lo diciamo facendo un appunto un dibattito forse viene anche meglio allora l'autore che si inventa questo nome estetica nel 1735 si chiama Baumgarten ed è un filosofo tedesco che fa derivare questo nome dal sostantivo greco aistesis che significa sensibilità sensazione sentimento e appunto poi lo trasforma in un aggettivo quindi diventa estetiche episteme scienza della conoscenza sensibile quindi l'idea diciamo iniziale dell'estetica è che l'estetica vuole raccogliere occuparsi di tutti quegli aspetti del pensiero del sapere che non sono logiche episteme che non riguardano l'esperienza della logica ed è interessante è un autore che diciamo è interessante soprattutto perché si inventa questo nome inaugura questa disciplina in un modo ufficiale anche se naturalmente di temi come il sensibile il bello ci si era occupati già prima di lui però lui dà il nome al contenitore che li può tenere tutti insieme a questa prospettiva più unitaria e però è un autore che io uso molto a lezione anche un po' all'inizio provando a vedere se qualcuna delle sue definizioni vi risuona anche con quello che intendete per esperienza estetica vostra oggi perché lui fornisce una definizione un po' confusionaria un po' diciamo in estensione orizzontale aggiungendo tante cose e quindi e però guarda caso nomina tutti quegli ambiti che poi nel corso della storia dell'estetica effettivamente saranno sviluppati quindi scienza della conoscenza sensibile teoria delle arti teoria del bello e poi appunto teoria del bel parlare e via dicendo e addirittura nelle applicazioni speciali di questa estetica iniziale che a noi sembra così collegata soltanto a una cosa magari all'arte o alla bellezza inserisce una serie di diciamo momenti della nostra esperienza abbastanza inaspettati addirittura parla di buone maniere di galateo di morale no l'estetica a che fare anche con l'etica perché il bello ha a che fare anche con il bene e via dicendo quindi è un autore diciamo che è interessante per questo poi gli altri suoi testi sono più poetiche riflessioni sulla poesia però diciamo propone questo nome e inaugura tutta una serie di studi che raccolgono insieme varie tematiche da lì poi diciamo la storia del pensiero sceglie nel senso che quello che voglio dire è che nel settecento ci sarà poi Kant che lavorerà sul bello poi subito dopo Hegel che dirà invece nelle sue lezioni di estetica uso questo termine estetica perché ormai le chiamo così perché ormai siamo abituati a chiamarle così ma in realtà questo nome è sbagliato perché bisogna parlare quello che io intendo per estetica è filosofia dell'arte quindi sceglie l'arte e oggi per diciamo venire incontro a lui che è interessato alla filosofia contemporanea io direi che tutti e tre diciamo i principali temi dell'estetica cioè arte bellezza e sensibilità in generale risuona non le teorie contemporanee forse la questione dell'arte che cos'è l'arte quali sono i concetti che costruiscono questo concetto anche storico di arte di pratiche artistiche sono soprattutto di ambito anglofono quindi sono meno europee diciamo forse il bello non è più trattato come bello ma come magari scioccante oppure appunto sublime e tutti i nipoti di questo concetto di sublime che ci sono nella contemporaneità sicuramente l'estetica per esempio oggi in alcuni autori tedeschi ma anche in Italia viene ripresa in un senso molto più ampio come lavoro filosofico sul tema della sensibilità e del corpo e della corporeità però tutti e tre diciamo le questioni quelle principali a parte il galateo e le altre diciamo che Baumgarten quando si inventa il nome propone quindi sensibilità arte bellezza sono riprese diciamo nel corso della storia e sono oggi presenti nel dibattito quindi come dire è stato un po' nella sua anche direi complessità abbastanza profetica no? poi di quello che questa disciplina che questa prospettiva filosofica è stata mi pare che c'era lui che voleva fare una domanda allora risorse umane è un bruttissimo termine che viene però usato per indicare in una compagnia in un'organizzazione quelle particolari figure destinate a due tipi di mansioni la selezione del personale e la gestione del personale esistente in funzione degli intenti di una compagnia no? allora in questa ed è ovviamente un compito molto delicato che per esempio richiede capacità una certa empatia capacità di saper valutare le capacità dell'altro flessibilità nel senso buono del termine cioè la capacità di poter organizzare un lavoro in funzione delle persone disponibili e anche di poter applicare le risorse disponibili agli intenti di una certa organizzazione ecco in questo pensate per esempio sono tutte cose forse un po' lontane da voi ma le grandi organizzazioni spesso ormai lavorano per progetti non lavorano più ma questo vale anche per noi nelle università e questo tipo di strutture ha bisogno proprio di questo tipo di personale allora in queste mansioni voi forse conoscete quel portale che si chiama LinkedIn credo se voi andate a vedere HR cioè risorse umane tanti tante persone che lavorano in quell'ambito sono proprio lavorate in filosofia devo dire tante anche Roma 3 forse perché Roma 3 ha una certa come dire disposizione nel formare questo tipo di profilo chiaramente non basta la laurea in filosofia la laurea in filosofia è un'eccellente base poi c'è bisogno di un master professionalizzante dopo quello sì però la forza del difilo cioè come dire uno può pensare ma allora faccio un corso tutto professionalizzante ancora meglio e invece no perché un corso tutto professionalizzante non permette di avere quella capacità di adattare le come dire di stabilire un confronto tra intenti quello che invece c'è visione di lungo periodo che ha bisogno di un sostrato critico di pensiero critico di cultura critica che invece dà gli studi di filosofia prego sì allora la ricerca filosofica allora per pochi ovviamente dopo la laurea è prevista la possibilità di svolgere un dottorato di ricerca e per un sotto insieme molto ridotto di quelli che hanno conseguito il dottorato di ricerca è prevista la possibilità certo la ricerca filosofica la ricerca nelle scienze umane fa parte a pieno titolo della ricerca di tutti i paesi che hanno un sistema di università ricerca e la ricerca filosofica riguarda sia la storia della filosofia sia l'estetica sia la filosofia della scienza la filosofia politica riguarda il dibattito e lo studio delle discipline filosofiche il dibattito filosofico va avanti da da molti insomma da circa 25 secoli e continua viene sempre data un po' per spacciata la filosofia ogni epoca era data per spacciata nasce all'epoca dei sofisti e di Socrate e Callicre dall'ievo di Corgia dice a Socrate mamma mia ma la filosofia è una cosa non per vecchio è una cosa che non ha senso quindi nasce con persone che la danno per spacciata tuttavia in realtà è sempre pensate a quanta importanza hanno le questioni in senso molto strettamente filosofico nella crisi internazionale che stiamo vivendo in questi giorni che spesso ha proprio le radici nella cultura religiosa e filosofica dell'est europeo nei legami con la cultura per esempio bizantina in una certa visione della politica e del rapporto tra politica e azione pratica che c'è in quei contesti cioè la filosofia è come d'altra parte anche il nostro modo occidentale di reagire a questo sia molto dettato a una nostra tradizione mi colpisce sempre che i nostri analisti tendono sempre a razionalizzare tutto non farà questo perché non gli conviene farlo che in fondo è l'impostazione socratica Socrate nel protagola dice c'è un calcolo razionale dei piaceri e uno agisce in base a quello in realtà l'uomo non è solo questo è anche qualcos'altro questi problemi ora sono spesso affrontati anche anche in questo caso con un dialogo non solo con la storia ma con le scienze per esempio le neuroscienze la psicologia sperimentale oppure e qui Daniela potrà dirlo molto più di me la crisi ambientale ci deve anche imporre di ripensare i nostri valori di legare un mondo che cambia a nostri valori perché se le impostiamo tutta sull'autocensura non possiamo fare più certe cose dobbiamo astenerci è chiaro che bisogna avere anche la capacità di individuare un quadro valoriale che ci permette di affrontare delle sfide inegge in tutto questo la ricerca filosofica ha un suo ha un suo forte impatto Daniele forse puoi aggiungere Sì visto che mi solleciti su questa cosa della crisi socioambientale per farvi un po' capire come si può lavorare insieme a partire da varie prospettive su questo ma anche da un punto di vista filosofico oppure dell'estetica che quindi appunto lavora nella risonanza con le arti con le pratiche artistiche con le nuove narrazioni e quindi è molto presente tutto quell'aspetto che sfugge ad un appunto discorso di calcolo di opportunità completamente razionale attribuendo all'umano al soggetto umano questa monoliticità nell'essere razionale e questo ultimo anno con i colleghi di questo progetto stiamo lavorando sul tema del futuro perché ci siamo accorti che lavorando appunto sulla crisi socioambientale anche con gruppi di attivisti che lavorano su questo spesso la questione il modo che si trova per produrre per sollecitare una risposta attiva quindi una responsabilizzazione nella protezione nella difesa dell'ambiente è quello di mostrare forse sicuramente sono sicura che sarà capitato anche a voi insomma anche a scuola mostrare le possibili conseguenze di un futuro spesso dipinto come catastrofico e quindi il modo per dire difendiamo tutti l'ambiente agendo responsabilmente spesso è quello di mostrare dei dati che descrivono un futuro terribile per cui tra dieci anni adesso dico dati a caso non li so però diciamo tra dieci anni c'è il deserto in Sicilia tra vent'anni finisce l'acqua scenari veramente catastrofici allora ragionavamo con i colleghi che spesso questa modalità che pure forse può attivare in qualcuno una risposta più responsabile in effetti è più spesso paralizzante perché se ti dicono che comunque il futuro è così gravemente condizionato prima di tutto da un punto di vista individuale della responsabilità individuale è molto difficile fare qualcosa cioè non può essere individuale la responsabilità di una cosa così enorme perché ti schiaccia completamente e in secondo luogo secondo me in molti di noi io devo dire me compresa visto che la nostra conversazione ha virato verso diciamo così una confidenza maggiore come dire di quello che mi sarei aspettata stamattina io stessa di fronte a questi scenari sono più per la paralisi che per attivarmi a fare qualcosa mentre secondo me perlomeno io sono più attivata quando si ragiona insieme si fa qualcosa insieme e anche lo si fa perché anche c'è un ci può essere un interesse come dire anche dell'immaginazione di fare qualcosa di importante per tutti non soltanto qualcosa che se non fai sei punito non lavorare sul senso di colpa e sulla responsabilità individuale ma lavorare sul fatto che siamo tutti convinti e convinte di fare qualcosa di giusto e quindi per esempio nel programma di quest'anno che abbiamo offerto anche stiamo offrendo anche agli studenti di filosofia in questo laboratorio stiamo invitando a ragionare sul futuro insomma collegato a questo tema molti artisti e per esempio venerdì al Teatro Palladium che è il teatro di Roma 3 assisteremo ad una proiezione di un film che si chiama Taming the Garden sul vuol dire addomesticare il giardino che racconta la storia di un ex primo ministro georgiano uno degli uomini più ricchi del mondo che decide di fare collezioni di alberi ma alberi antichi secolari ed enormi quindi estirpandoli dai vari posti in Georgia e quindi appunto ragioneremo un po' su questa idea di progetto di futuro come progetto così violento anche se volete nel descrivere un certo rapporto dell'umano con la natura oppure anche io per esempio ho organizzato un incontro con una compagnia teatrale che si chiama Casa d'Argilla che è anche una compagnia che ha vinto il premio Ubo che è uno dei premi di teatro più importanti che lavora sulla fantascienza allora appunto proprio la fantascienza letteraria trasposta a teatro sulla scena che tipo di immaginazione ci può attivare differente da quella necessariamente catastrofica queste autrici che nominavo prima Araway Braidotti lavorano non tanto sul fatto di tornare indietro cancellare i danni ambientali per tornare ad un'origine che diciamo cosiddetta di purezza diciamo del pianeta eccetera perché come vedete la crisi c'è già da sempre come diceva Riccardo prima la crisi della filosofia c'è già da sempre il cinema inizia con uno dei fratelli Lumière che dice questa invenzione è senza futuro è molto interessante l'umano si rappresenta sempre con un'assenza di futuro questa sarebbe la crisi più grande allora ho ancora appunto da che c'è l'umano sul pianeta se vogliamo vivere su questo pianeta qualche impatto sul pianeta ce l'abbiamo quindi l'idea sarebbe piuttosto che immaginare di cancellare eliminare e tornare indietro ad una età dell'innocenza da sempre perduta che probabilmente non c'è mai stata provare a immaginarsi oggi quindi un futuro che sta qui che arriva ogni momento che non è lontano insieme alla diciamo allo scioglimento dei ghiacciai e farlo appunto anche non soltanto con gli strumenti della scienza che naturalmente sono di supporto diciamo importantissimi anche per questo discorso ma anche con gli strumenti dell'immaginazione quindi questo per esempio secondo me è un modo per descrivere come con l'immaginazione dico questo e poi ripasso la parola a voi o a Riccardo se vuole ma oggi in questa lezione che avevamo immaginato di fare con voi un po' più frontale quindi forse è andata molto meglio così avevamo deciso di chiamare la lezione la filosofia tra storia e invenzione proprio perché la mia idea era di proporvi una pratica filosofica che si inventa dei nuovi concetti delle nuove soluzioni cioè spingere non soltanto sull'apprendistato storico-filosofico presso i grandi filosofi per cui la filosofia bisogna chiaramente no? come dire avere coscienza e studiare quello che abbiamo ereditato dalla grande tradizione filosofica insomma del pensiero occidentale ma forse la filosofia può essere anche non solo riflessione ma invenzione di nuovi concetti a partire dalle domande più urgenti che sono quelle del nostro presente quindi secondo me è interessante provare a spostare la definizione di filosofia da un elemento più meramente contemplativo riflessivo comunicativo ad un elemento di creatività anche di inventività naturalmente a me diciamo viene facile con la risonanza con le pratiche artistiche ma questo vale un po' per tutte le le prospettive filosofiche secondo me bene visto che appunto come diceva Daniela la nostra lezione è un dibattito diciamo forse la risposta immediata alla domanda che è stata prima rivolta quanto il dibattito e il confronto hanno che ruolo hanno nelle elezioni di Roma 3 forse viene da quello che abbiamo fatto oggi insomma tra l'altro se anche da casa qualcuno vuol porre delle domande sono più che benvenute basta attivare il microfono e rivolgerle non ci sono problemi in attesa delle domande da casa nel caso venissero ce n'è però un'altra è qui in classe prego allora la domanda che pone il suo nome come me quindi perfetto la domanda che pone Riccardo è questa cioè dopo quanto tempo gli studenti hanno gli strumenti per porre domande e porre questioni guardate questa è la classica domanda che uno potrebbe dire dopo quanto tempo uno che vuole imparare a nuotare entra in acqua ecco se uno aspetta di saper nuotare per entrare in acqua difficilmente imparerà mai a nuotare cioè il problema è quello di quando ovviamente noi cominciamo i nostri corsi per le matricole ci troviamo di fronte a dei ragazzi di livello vario ci possono essere ragazzi che hanno già studiato molto bene strada filosofia a scuola e persone che magari l'hanno studiata poco o addirittura per nulla perché mi è capitato penso anche a Daniele di avere studenti che non avevano studiato filosofia a scuola a scuola superiore a quel punto l'esercizio è proprio quello di cominciare a sollecitare il dibattito orale e scritto è importantissima l'espressione scritta e questi strumenti si acquisiscono gradualmente esercitandosi ecco questo è l'unico è l'unico modo per acquisirli diciamo questo io parlo della mia esperienza io insegno filosofia antica ve l'ho detto su uno storico della filosofia antica mi occupo in particolare di neoplatonismo quindi insomma di argomenti comunque molto se vogliamo rivolte al passato anche se poi gli autori che studiavo quando sono vissuti sono vissuti in un presente in cui hanno davvero detto la loro opinione detto questo io personalmente ho sempre due poli che credo siano quelli rispetto a cui io devo cercare di trovare qualcosa di sollecitare nei ragazzi e nelle ragazze qualcosa di diverso il primo è ma devo dire questo è abbastanza raro come dire l'intervento o la presa di posizione personale come diceva giustamente Chiara io dico spesso a lezione a me le vostre opinioni non interessano ma non perché io non sia interessato alle opinioni degli studenti perché quello che mi interessa è il modo in cui le argomentano ci possono essere opinioni che io condivido ma che se sono argomentati in maniera inadeguata o solo sulla base delle proprie esperienze personali io credo che in questo caso che la capacità di pensiero critico non sia sviluppata a me non interessa di essere d'accordo con gli studenti interessa che gli studenti sappiano dire in maniera come dire argomentata e critica quello che anzi se c'è disaccordo meglio voglio dire si impara di più il polo opposto ed è tipico di una certa formazione italiana molto ben rappresentata da alcuni nostri cugini è la formazione tipicamente classica italiana in cui non devo avere opinioni devo esibire le mie letture devo parafrasare i libri che ho letto devo fare tante citazioni diciamo un modo di guardare alla formazione molto rivolto al passato nel senso l'eteriore perché guardate che lo studio del passato non è mai stato questo quando platone parlava del passato ne parlava poi con un intento molto rivolto a quello che platone viveva nella sua epoca e così aristotele e così leibniz kant hegel l'idea che invece ci sia un passato rispetto a cui io posso solo ripeterlo no ecco e questo è anche un aspetto che io tendo a giudicare come un aspetto che va corretto quello che almeno io ma credo anche Daniela quello a cui noi vorremmo arrivare insieme ai nostri studenti è sollecitare ai nostri studenti un uso critico del loro bagaglio culturale fondato su argomenti in cui c'è una come dire un mutuo verificarsi tra la capacità critica e il proprio bagaglio culturale ecco questo è quello che idealmente alla fine della laurea triennale un nostro studente bravo dovrebbe essere capace di aver assimilato non tanto come dire i mille libri letti non è interessante questo l'importante è che uso ha fatto uno dei libri che ha letto e neanche però come dire l'invettiva oppure il il semplice prendere posizione no prendere posizione ha senso se c'è un'argomentazione dietro se no è una semplice asserzione ecco questo è un po' e per questo chiudo è fondamentale l'argomentazione scritta per questo chiediamo tante tesine nei nostri esami perché molto spesso questo aspetto viene un po' lasciato indietro e invece la scrittura argomentativa è davvero un aspetto chiave nella formazione nel pensiero critico non so se Daniela vuole aggiungere qualcosa ci sarebbe tanto da aggiungere sì diciamo intanto proprio molto concretamente io per esempio all'inizio del corso la prima settimana lavoro un po' sulla definizione appunto di estetica perché non è chiara a tutti già nasce con molte definizioni quindi propongo molto semplicemente varie definizioni di esperienza estetica tra cui quella più forse per spiego è quella di esperienza artistica no più facile da da capire e quindi la prima settimana la seconda settimana spesso sollecito ehm tutti a dire qualcosa su che cosa sulla loro idea di esperienza dell'arte che esperienza dell'arte hanno fatto e ovviamente questa prima ehm giro diciamo che facciamo tra di noi eh che più o meno anche diciamo significa pronunciarsi contro a favore quello che io vi ho proposto perché ancora ci sono poche c'è poca carne al fuoco però diciamo ognuno ha fatto esperienza dell'arte e quindi in qualche modo come non so musicista qualcuno di voi suona oppure dall'altra parte come fruitore frequentatore di musei o ancora una certa esperienza del bello in natura e via dicendo ehm ed è interessante dopodiché appunto spesso molti eh molte di voi hanno anche difficoltà ad argomentare eh su questo no perché è un po' un'esperienza sfuggente e anche perché ci sono ancora poche letture poca 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 sostanza alla fine del corso in cui lavoriamo su ehm vari autori ma diciamo in realtà l'approfondimento l'affondo ogni anno è eh su due tre autori non di più ehm si ritorna sullo stesso argomento eh ed è interessante perché c'è già un posizionamento rispetto ad un punto di partenza eh più ricco diciamo e quindi eh secondo me lì c'è già un un allearsi con un filosofo invece che con un altro un andare contro una certa idea proposta da un filosofo invece che da un altro quindi eh diciamo come 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 diceva Riccardo prima ci si può eh buttare subito e naturalmente ehm direi che eh diciamo nel corso di quello che a me piace chiamare un po' un apprendistato no? Cioè un po' come quando a bottega del pittore eh si andava a imparare a disegnare qui l'apprendistato lo facciamo presso i filosofi del passato in pochi in poco tempo no? Già rispetto a quel a quella che era soltanto magari un'opinione personale un'esperienza personale si sostanzia di eh un contenuto che rende più ricca l'argomentazione quindi questo sicuramente è un punto e poi forse un'altra cosa che che vorrei dire eh relativamente alla questione eh appunto inventare concetti ma anche conoscere la storia della filosofia secondo me una cosa interessante è ehm l'idea di fare questo studio questo apprendistato questo questo lavoro sugli storici ehm della filosofia eh a partire da una domanda che condividiamo con loro cioè spesso eh la possibilità di argomentare di dire qualcosa di ehm diciamo di interessante anche no? o comunque che ha un po' l'aggancio di qualcosa che è importante per noi ecco parte dal fatto che ci siamo rivolti a quel filosofo o a quella filosofa perché condividevamo con lui o con lei un problema un'urgenza che è qualcosa che ci riguarda anche personalmente quindi io eh appunto credo molto nel frequentare i concetti che ci arrivano dal passato la storia della filosofia e definisco abbiamo fatto ho dovuto fare recentemente questo questo lavoro di definizione della nostra prospettiva no? per il dottorato e appunto io facilmente condivido l'idea che il mio il mio approccio è di pensiero critico ma è anche storico cioè sono d'accordo che siamo anche degli storici delle idee però penso anche che questo questa ricerca nella storia della filosofia non è non è imparziale non è obiettiva ma va ad allearsi con quei pensatori che che avevano diciamo in mente le nostre urgenze e io penso che anche voi adesso dico questa qui sbilancio anche proprio all'inizio inizio inizio di un percorso di studio un un tarlo qualcosa che veramente ci non solo ci interessa ma un po' ci ci tormenta ce l'abbiamo tutti e magari un po' inconsapevolmente tra un po' di anni vi renderete conto che vi siete appassionati a quegli autori che avevano in comune con voi quello stesso problema che può essere l'ambiente che può essere non so la questione per esempio di un certo di tutta una serie di pratiche della nostra esistenza che non hanno un'utilità immediata evidente e appunto automatica e che pure ci sembrano così significative sono tanti i punti del pensiero contemporaneo e non che hanno questo tipo di aggancio per noi allora sostanziare le proprie opinioni con delle argomentazioni che ci arrivano anche dallo studio e dalla frequentazione di autori del passato ma questa sostanza si fa sulla base di una curiosità che parte da voi diciamo ecco questo ancora finiamo era già finita in realtà l'ideale era prevista un'ora di lezione credo quindi in realtà noi siamo già fuori tempo massimo quindi non so se c'è un'ultima domanda rapida possiamo senza dubbio raccogliere un ultimo spunto allora bella domanda quanti esami ci sono ogni anno il corso di laurea triennale in tre anni comporta il conseguimento di 180 CFU il che significa no 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 non 180 esami ogni esame ha o 6 o 12 CFU quindi in linea di massima ogni anno 6 esami circa per essere in regola insomma in modo tale che si arrivi a questi circa 60 CFU l'anno chiudo proprio visto che questa è un'ottima domanda se voi decidete di iscrivervi a filosofia allora ripeto se una persona si iscrive a filosofia con l'idea di non frequentare non studiare e essere passivo diciamo che non dimostra particolare abbedutezza nel senso che perde tre anni della sua vita va bene che può usare in modo molto più fruttuoso se vi iscrivete a filosofia dovete avere una qualche motivazione se no non ha senso va bene questa motivazione deve però essere realizzata in modo coerente con gli scopi che vi siete proposti per cui seguite i corsi e sostenete gli esami in tempo l'importante non è avere tutti i 30 e l'ode nel libretto è la cosa meno importante di tutte in un percorso di studio l'importante è sostenere gli esami nel momento in cui vanno sostenuti laurearsi nel tempo previsto non andare fuori corso e interagire con l'università in cui si sta iscriversi a filosofia con l'idea di starsene a casa sostenere un esame l'anno e prendere tutti i 30 e l'ode è una scelta davvero poco condivisibile quindi se si seguono i corsi se si studia durante i corsi ecco idealmente quei 5-6 esami l'anno vi permettono di arrivare a quei grossomodo 60 CFU l'anno che vi permettono di laurearvi non è pensata per dei geni sovrumani il percorso di studio in filosofia cioè tutte persone con una buona capacità intellettuale che studiano e si applicano ci riescono senza problemi insomma quindi però ecco questo è un punto è un punto importante non non come dire gli esami vanno bisogna cominciare subito da gennaio ci si scrive a settembre da gennaio si cominciano a fare gli esami non aspettare perché non so io voglio essere sicuro di prendere 30 assolutamente non è quello il modo di sostenere l'esame va bene allora se non ci sono altre domande ovviamente Laura vi ha fatto credo circolare un foglio con le mail la migliore forma di orientamento in realtà sarebbe seguire le lezioni come dicevo sempre ma purtroppo col covid non è più possibile quindi non potete venire a seguire una lezione però ecco tenetevi sempre guardate per esempio le iniziative del nostro canale youtube ci sono tanti video di conferenze di filosofia che abbiamo registrato nel corso degli anni guardatevi un po' quello che facciamo perché ogni università quando parla di se stessa nessuna università vi dice guardate qui insomma l'insegnamento è così è così gli studenti li trattiamo male poi vi scriverete chissà che farete dopo ovviamente nessuna ve lo dice quindi alla fine queste presentazioni spesso si assomigliano un po' tutte dove potete cogliere la differenza un po' ecco già da quello che ci siamo detto e poi cercate di vedere quello che facciamo abbiamo tante cose pubbliche su internet andate a vedere quello che si che facciamo qui come si studia le iniziative e questo è il vero orientamento va bene allora io direi che ci possiamo salutare grazie molte speriamo di rivederci con almeno alcuni di voi a settembre grazie a tutti 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 grazie a tutti